Bene, allora iniziamo, benvenuti a tutti, oggi abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Cristiana De Santis dell'Università di Bologna, professoressa di, o professore, professora, benissimo, professora di linguistica italiana nell'Università di Bologna e nota esperta di grammatica italiana e di didattica della grammatica italiana e principale rappresentante di quel proficuo filone che patrocina e rappresenta, esemplifica, insomma concretizza l'approccio valenziale nell'insegnamento della grammatica. Allora è molto nota in generale ed è particolarmente già nota a noi perché c'è già fatto una bellissima lezione l'anno scorso. Per rinfrescare la memoria sulla sua produzione scientifica e scientifico-didattica, qui vi sono scritto e vi mostro un piccolo elenco di suoi libri. Ecco, allora Fatti di lingua è un libro didattico che si rivolge a studenti giovani, diciamo, così come grammatica in gioco che si rivolge a bambini e che io ho un libro che possiedo e vi faccio vedere, quindi grammatica in gioco per introdurre alla grammatica i bambini elementari. Poi il libro successivo invece, che cosa è la grammatica valenziale, Carocci, Bussole, Carocci 2016, è un libro di teoria, non si rivolge agli studenti ma si rivolge agli insegnanti, è vero, per spiegare i concetti fondamentali della grammatica valenziale e la loro utilità didattica. Poi ho elencato due libri scritti in collaborazione con Francesco Sabatini e Carmela Camodeca, è giusto l'accento? Carmodeca, è un nome neogreco. Ecco, sì, sì. Allora tutti conoscete benissimo Francesco Sabatini, è un grande storico della lingua italiana, già presidente dell'Accademia della Crusca, noto anche al grandissimo pubblico per la sua presenza in televisione a rispondere a dubbi linguistici, è vero, da molti anni, quindi è un volto molto noto. e Sabatini, che da molti decenni è stato autore di manuali di grammatica italiana per le medie, per il biennio, è un autorevolissimo sostenitore del rinnovamento della grammatica all'insegna dei concetti della linguistica valenziale. e quindi questi sono due manuali pubblicati dall'Oescher, uno per la media e uno per le scuole superiori, appunto, in cui c'è l'innesto della grammatica valenziale. Poi, ecco, vengono due libri scritti molto importanti, scritti in collaborazione con Michele Prandi, scrista italiano dell'Università di Genova, di cui il primo, Manuale di Linguistica e di Grammatica Italiana, è questo, è vero, ponderoso volume, molto importante, di cui vi voglio leggere due frasi nella introduzione, in cui dice a chi si rivolge questo libro. Il destinatario ideale di questo manuale è lo studente universitario di Linguistica Italiana, di Linguistica Generale o applicata allo studio delle lingue, eccetera. Lo studente di Italianistica ci trova i concetti importanti e aggiunge l'insegnante di italiano, quindi i destinatari sono studenti universitari, insegnanti di italiano e formatori di insegnanti. L'insegnante di italiano, e a maggior ragione il formatore di insegnanti, troverà in queste pagine lo spunto per una razionalizzazione della didattica, della grammatica. Ecco, quindi non è un libro di didattica, è un libro di linguistica e grammatica italiana, ma fatto anche con un occhio alle necessità di informazione, alle necessità concettuali di chi usa la grammatica per insegnare la grammatica. Quindi è particolarmente utile per tutti i docenti di varie ordini di scuola che vogliono aggiornarsi. Il titolo successivo è una nuova, diversa, più snella edizione, lo stesso manuale che Cristiana vi sta facendo vedere, e su cui credo che si soffermerà nel corso della sua lezione. Ecco, infine ho voluto elencare un libro che non ha a che fare con la didattica, è un libro proprio di linguistica italiana, scritto con lo stesso Michele Brandi che ho già citato e con Gaston Gros, un altro in vista francese, sulla finalità, scura e concettuale, sull'espressione in italiano. Ecco, perché nella attività di Cristiana De Santis la riflessione sulla grammatica italiana, sulla didattica della grammatica si accompagna sempre alla ricerca scientifica su vari temi di linguistica generale e di linguistica italiana. Bene, mi taccio e le lascio direttamente la parola, ringraziandola molto per essere di nuovo con noi. Ecco, un'ultimissima parola. Cristiana, il titolo della sua lezione era originariamente questo che io mi ero trascritto qui, partire dalla frase, un percorso induttivo, la scoperta del verbo e dei suoi argomenti, ma Cristiana poi ha parzialmente, diciamo, riorientato il titolo per concentrarsi soprattutto sulla sintesi della frase complessa, dato che Alvise Andreose si era soffermato di più sulla sintesi della frase semplice. Quindi, diciamo, con questa terza lezione e poi con la lezione che farò la settimana prossima io che parlerò delle parti del discorso, direi che c'è un'ottima complementarità, ecco, fra sintesi della frase semplice, sintesi della frase complessa, morfologia e lessico, l'ultima lezione di Maria Pia Loduca, ecco, e poi le parti del discorso. Benissimo, quindi lascio la parola a Cristiana De Santis, ringraziandola di nuovo per essere con noi. Prego. Grazie, grazie di questa bella presentazione e grazie a tutti voi, a tutti voi che non posso vedervi, spero di vedere dopo qualche volto. Il percorso che vorrei fare con voi oggi è appunto quello che ci porta dal semplice al complesso, quindi una scoperta induttiva come è nel titolo di questa serie di lezioni della frase complessa. E vediamo se riesco ad andare avanti. Questa è la copertina del volume di cui vi parlava il professor Tavoni, un volume che è uscito lo scorso anno, si chiama Grammatica Italiana Essenziale e Ragionata, l'acronimo è GER, essenziale perché questi sono, diciamo, non so se mi vedete, ma vedete che è molto diverso lo spessore del manuale e di questa grammatica essenziale. Quindi abbiamo un po' ridotto all'osso la trattazione e soprattutto ragionata perché abbiamo scelto di non, diciamo, di cambiare la modalità espositiva, quindi di non utilizzare una modalità di racconto, comunque di trattazione, ma di presentare sotto forma di tabelle, come vedete appunto in questo esempio, che è tratto proprio dal capitolo dedicato alla frase. La grammatica parte dalla frase, quindi a differenza di altri percorsi, ma in comune anche con la descrizione che è fatta nel manuale, il punto di partenza della grammatica dell'italiano è la frase. All'interno della frase poi, diciamo, ci si muove guardando verso il basso, quindi verso le parti del discorso, è verso l'alto, cioè verso il testo. E l'approccio è induttivo perché, o comunque parzialmente induttivo, qui fondamentalmente perché si arriva alla definizione, qui vedete, insomma, una pagina, la definizione è sotto, non è sopra. Allora, prima osserviamo, quindi nella tabella a sinistra, osserviamo una serie di esempi di dati linguistici. a sinistra, gli stessi esempi sono analizzati, quindi c'è un breve commento. Dopo che abbiamo, appunto, osservato e analizzato una serie di esempi, possiamo arrivare a una definizione. Chiaramente una definizione che tenga presenti alcuni aspetti fondamentali e lasci cadere per il momento almeno tutte quelle che vengono chiamate eccezioni che poi eventualmente vengono successivamente recuperate ed analizzate, alcune anche sotto forma di piccoli esercizi stimolo che sono presenti. Ma appunto non c'è una parte propriamente di esercizi, ma ci sono delle attività, che si chiamano mettiamoci alla prova, che invitano appunto a misurarsi con la materia per riattivare delle conoscenze che molto spesso si posseggono. È chiaro che una grammatica di questo tipo, ma io direi un percorso di questo tipo, è pensato per una persona madrelingua che abbia già una competenza spontanea della lingua e magari anche una conoscenza riflessa, quindi abbia fatto un percorso grammaticale. Spesso proprio chi ha fatto un percorso grammaticale nella scuola fa fatica a sganciarsi dalla modalità tradizionale di descrizione che parte dal piccolo per arrivare al grande. Qui invece si tratta di partire da un'unità intermedia, ecco come la frase, ma un'unità minima di significato per arrivare poi al grande, ma anche per capire il piccolo, la misura in cui il piccolo è la parte del discorso che è appunto una parte della frase. Allora, guardo, insomma, scorro rapidamente con voi. Allora, vedete, qui abbiamo cinque esempi. La prima, libro, questa è una grammatica E, è un insieme di parole che non compongono una frase. Poi abbiamo una frase, diciamo, monca, perché vedete che c'è un verbo affrontare che è un verbo bivalente transitivo, quindi richiederebbe oltre al soggetto questo capitolo un argomento oggetto. Se non la completiamo con questo secondo argomento, non possiamo dire che appunto di avere a che fare con una frase. Poi abbiamo una frase sgrammaticata, cioè una frase in cui non è rispettata la regola dell'accordo. Questo libro hanno 200 pagine e il verbo, anziché essere accordato con il soggetto, è accordato con l'oggetto diretto, quindi non rispetta le regole della grammatica italiana. Poi abbiamo una frase che grammaticalmente sembrerebbe funzionare quello che non funziona è la coerenza, perché il soggetto, la grammatica, a meno che non lo intendiamo come mi viene in mente adesso, perché appunto prima parlavamo di professore, professoressa, a meno che la grammatica non sia il femminile del grammatico, però se intendiamo la grammatica come nell'accezione consueta, cioè il libro oppure la materia, beh, essendo qualcosa di inanimato, non possiamo dire che scrive libri. E poi vedete una frase completa, Cristiana e Michele hanno scritto una grammatica, qui abbiamo un soggetto plurale, perché appunto sono due soggetti coordinati, l'accordo del verbo, e poi il verbo regge un oggetto diretto. Quindi vedete abbiamo, passiamo da una serie di non frasi a una frase, e riusciamo a definire poi una frase in base non solo alla compiutezza del significato, ma anche alla completezza della struttura. E quindi sotto vedete una definizione provvisoria. Diciamo che il percorso è anche un po' quello dell'esperimento grammaticale, suggerito per esempio da Maria Pialo Duca, sul quale immagino abbiate riflettuto nell'incontro con lei, ma spostato sul terreno, diciamo, della riflessione tipica degli adulti, quindi una riflessione che non indulge troppo, parte appunto in questi casi su anche diciamo eccezioni un po' immaginifiche, ma in ogni caso parte dal dato linguistico, confronta, cerca delle regolarità, e poi arriva a una definizione. Proseguo, e poi, insomma, qui proseguiva appunto la frase perché volevo appunto portarvi dalla riflessione sulla frase semplice, quella che abbiamo visto finora, una frase semplice, cioè singola, in cui troviamo un solo verbo che fa da perno alla frase, verso la frase complessa. E allora qui vedete appunto una frase, questo libro è strano, in cui il soggetto, questo libro, è un sintagma nominale, so che avete parlato appunto anche di componenti della frase che sono sintagmi, quindi gruppi del nome, in questo caso un gruppo del nome. Nella frase successiva, il verbo, il predicato nominale, è lo stesso, è strano, ma il soggetto non è un sintagma nominale, è una frase. Che cosa è strano? Non questo libro, ma è strano il fatto che Mario non sia ancora arrivato, quindi che Mario non sia ancora arrivato è il soggetto della frase. Quindi siamo passati a parità di predicato da un soggetto nominale a un soggetto che è invece una frase, una frase che poi vedremo è una frase completiva. Poi abbiamo esempi di frasi invece che occupano la posizione di oggetto, diretto, Mario teme i serpenti, Mario teme che cosa? Che il treno sia in ritardo. Quindi di nuovo una frase che occupa la posizione, una posizione di argomento del verbo, ma in questo caso non è l'argomento soggetto, è l'argomento oggetto diretto, quindi è il retto dal verbo. Notiamo poi anche il verbo al congiuntivo, sia nella soggettiva, sia nella oggettiva. E di nuovo qui Mario si è scritto giurisprudenza per il suo futuro, oppure per diventare avvocato. Qui abbiamo una frase finale. Dopo la pioggia abbiamo visto l'arco baleno. Dopo che ha smesso di piovere abbiamo visto l'arco baleno. Quindi a parità di significato, perché per il suo futuro e per diventare avvocato abbiamo comunque a che fare con l'espressione di un fine. Solo che nel primo caso, per il suo futuro, il fine è espresso da un complemento, avremmo detto, diremmo tradizionalmente, mentre qui sotto da una frase finale per diventare avvocato. Dopo la pioggia è, diremmo, un complemento di tempo. Dopo che ha smesso di piovere è una frase temporale, ma il rapporto è sempre quello, cioè è l'espressione di una, diciamo, posteriorità, un rapporto di posteriorità. E ancora, vedete, il nonno camminava faticosamente, qui abbiamo a che fare con un avverbio che modifica il verbo camminare, il nonno camminava zoppicando, qui abbiamo a che fare con un gerundio che in qualche modo può essere interpretato come una frase, che ha comunque la stessa posizione, la stessa funzione di quell'avverbio sopra. Nella frase ancora sotto, la casa gialla, appartiene al mio cugino, e la casa che si affaccia sul fiume, beh, qui abbiamo, vedete, la corrispondenza tra un aggettivo gialla e una frase relativa che si affaccia sul fiume. e poi ritorneremo su questi diversi tipi di frasi. Quando si parla in particolare di subordinazione, spesso si fa un elenco che mette un po' sullo stesso piano tutte le frasi, cioè si inizia da soggettivi, oggettivi, relative, e poi a cascata tutte quante le frasi che esprimono delle relazioni concettuali, quindi causali, finali, temporali, e così via. Cercheremo oggi di fare un pochino di ordine guardando la frase complessa con la stessa lente che abbiamo utilizzato per la frase semplice, una lente che mette risalto la struttura e quindi fa emergere la differenza tra il nucleo e quindi il centro e la periferia. Qui vedete la definizione che si può trarre di frase complessa dopo tutti gli esempi che abbiamo osservato, e cioè la frase complessa o periodo è una frase che contiene almeno una frase chiamata frase subordinata tra i suoi costituenti e la frase complessa etimologicamente vuol dire abbracciata quindi in questo abbraccio oltre alla frase che fa da perno di quello che viene chiamato anche periodo dobbiamo trovare almeno un'altra frase quindi nella frase complessa c'è almeno un'altra frase tra i suoi componenti solo che quest'altra frase può avere delle funzioni delle posizioni diverse perché vedremo la frase relativa funziona come un modificatore del nome una frase come zoppicando funziona come un modificatore del verbo le frasi invece che abbiamo visto prima cioè ad esempio la frase temporale è una circostanziale quindi una subordinata propriamente detta fra le frasi introdotte dal che dal che insomma congiunzione sono delle frasi argomentali quindi completive che occupano proprio la posizione di argomento del verbo bene qui in questa in questa slide trovate appunto l'etimo di cui vi ho già parlato è interessante soffermarsi anche sull'etimologia di periodo perché propriamente significa appunto giro circuito è un termine che si usa anche per con altri significati e vedremo che questa circolarità è un aspetto che dobbiamo tenere a mente perché in generale la struttura periodale è una struttura tipica della lingua scritta in cui possiamo aprire e chiudere questo cerchio a volte tracciare un cerchio anche molto ampio inserendo all'interno molti elementi che possono essere anche in varia combinazione e in vario rapporto tra di loro e quindi la frase complessa può complicarsi molto parleremo anche insomma cercheremo di parlare un po' anche di questo cioè di quali sono i fattori di complessità di un periodo possono essere appunto la lunghezza media dell'enunciato che è un dato che viene calcolato anche automaticamente per esempio dai programmi che calcolano la leggibilità del testo ma può essere data anche per esempio dai livelli di incassatura cioè ci sono sbordinate di primo grado secondo grado eccetera oltre che dai tempi verbali dal tipo di congiunzioni preposizioni scelte scusate c'è qualcuno che forse ha l'audio acceso per me non è un grande problema però ecco se vi mutate tutte tutti questo verbo mutarsi comunque lo usiamo allora vi ricordo spero che insomma l'avevamo parlato lo scorso anno comunque chiunque si sia avvicinato un po' a quella che appunto è stata definita grammatica valenziale o grammatica delle valenze avrà contezza o se non dinestichezza con questo tipo di schemi questi grafici radiali che ho qui riprodotto semplicemente perché ci fanno vedere molto chiaramente quali sono le tre aree della frase il verbo al centro quindi per questo diciamo che è una visione verbocentrica e intorno al verbo si aggrega il nucleo della frase quindi la parte più centrale nucleo formato dal verbo e dai suoi argomenti l'argomento soggetto che abbiamo visto quello che determina l'accordo con il verbo e poi gli argomenti retti dal verbo può esserci un oggetto diretto può esserci un oggetto indiretto quindi introdotto da preposizione in alcuni casi ci sono degli elementi avverbiali poi ci sono c'è un'area che è quella dei modificatori che Sabatini chiama circostanti altri chiamano appunto modificatori e sono fondamentalmente modificatori del nome quindi aggettivi complementi del nome e modificatori del verbo come per esempio gli avverbi oppure l'espressione di modo e poi in un'area proprio più più periferica ci sono i cosiddetti circostanziali o espansioni che sono elementi periferici marginali che possono agganciarsi o al predicato cioè all'insieme del verbo e degli argomenti retti dal verbo oppure alla frase teniamo a mente questa struttura tripartita perché la ritroveremo anche nel periodo e questo è un concetto che forse è passato meno nelle prassi didattiche eppure anche il periodo può essere diciamo razionalizzato organizzato in modo diverso quindi evitando quella cascata che troviamo nella descrizione dei complementi e poi di nuovo troviamo nella descrizione delle frasi subordinate possiamo fare insomma un po' di ordine sulla base degli stessi criteri in questo caso quindi quando parliamo di frase complessa il perno quindi il centro non sarà il verbo ma la frase reggente costruita intorno al verbo quindi abbiamo una frase reggente come vi dirò preferisco dire reggente non dirò principale in generale vedrete che io non parlo di proposizioni cioè spesso quando si parla di frasi all'interno del periodo le frasi diventano proposizioni c'è una grandissima ricchezza nella descrizione grammaticale che forse sarebbe bene a fini didattici ovviamente ridurre a parte il fatto che proposizioni almeno nelle tesi di laurea diventano quasi sempre preposizioni quindi c'è questo diciamo si può appunto ci si può confondere facilmente e poi possiamo continuare a chiamarle frasi non c'è non c'è nulla di male frasi sono e frasi rimangono anche quando entrano dentro un'altra frase quindi frase reggente è diciamo il perno il nucleo se vogliamo dire del periodo e all'interno di questo nucleo può esserci un'altra frase che è in qualche modo inglobata incorporata nel nucleo perché ha la funzione di un argomento del verbo e sarà una frase soggettiva o una frase oggettiva quindi le frasi soggettive e le frasi oggettive comprese le interrogative indirette che sono delle frasi oggettive rette da verbi di dire si collocano al centro del periodo quindi quando c'è una frase completiva questa fa parte del nucleo perché è retta dal verbo della frase reggente poi ci sono delle frasi relative che hanno uno statuto completamente diverso perché si agganciano a un nome che può essere un nome che funziona come argomento ma può essere anche un nome che non funziona come argomento quindi possono essere del tutto periferiche così come le gerundive che prima abbiamo mi sto zoppicando che modificano localmente il verbo le frasi relative insomma tipicamente spandono un nome le frasi gerundive tipicamente spandono un verbo poi ci sono anche alcuni casi in realtà più complessi di frasi al gerundio e poi ci sono anche le frasi al participio adesso non entriamo nel dettaglio comunque diciamo tutte quante le frasi alla fine trovano un loro posto un loro ordine all'interno di questa ripartizione nell'anello più esterno troviamo le frasi circostanziali che esprimono di solito appunto delle circostanze spaziali temporali causali e espandono non un elemento della frase reggente ma incorniciano in qualche modo l'intera frase o almeno la sua parte predicativa quindi tre aree nella frase semplice tre aree anche nella frase complessa è importante però che ci ricordiamo subito che la frase complessa non è l'unica possibilità di cui noi disponiamo per collegare delle frasi perché anzi direi che la frase complessa come ho detto prima è una soluzione abbastanza tipica della lingua scritta nella lingua parlata noi preferiamo di solito delle soluzioni più lineari qui ho messo delle immagini l'immagine del portico ovviamente questa è un'immagine bolognese e invece quella di una piazza rinascimentale nella dimensione vedete della sequenza quindi qui abbiamo una sequenza di arcate che danno luogo appunto al portico le frasi sono affiancate sono una dopo l'altra quindi disposte in sequenza e non necessariamente ci sono degli elementi grammaticali di congiunzione mentre nella frase complessa nel periodo propriamente detto la struttura appunto è periodale circolare periodo per eccellenza è il periodo ipotetico in cui c'è sempre un se e un allora quindi la circolarità il cerchio si chiude ma in generale anche in un periodo a più volute esiste sempre questo disegno molto preciso che l'occhio su un testo scritto è in grado di seguire a volte anche di anticipare quando il lettore è un lettore esperto in qualche modo il periodo ci lascia all'inattesa ci incatena è chi scrive oppure chi parla ma avendo chiaro il disegno della frase che ha diciamo un po' in mano la situazione e la visione architettonica dell'insieme che vuole presentarci poi vedremo che nel periodo si possono anche realizzare degli effetti di prospettiva cioè dei primi piani dei secondi piani e direi che forse questa è la funzione più importante del periodo lo vediamo bene nei testi narrativi anzi direi che spesso presento anche dei periodi manzoniani proprio per far vedere la grandissima capacità che aveva proprio Manzoni di disegnare un a volte un paesaggio proprio attraverso questo gioco di primi piani e di secondi piani che invece nella giusta posizione si tende a perdere perché abbiamo appunto una sequenza di elementi che sono messi sullo stesso piano bene così vi ho dato queste immagini cercherò di vedrete di usare delle immagini perché insomma le metafore visive a volte sono anche più efficaci soprattutto per i ragazzi e in ogni caso vedete io in qualche modo sto un po' legittimando quello che nella tradizione grammaticale viene chiamato asindeto cioè la giusta posizione non è altro che una forma di collegamento in assenza di congiunzioni però appunto nelle grammatiche tradizionali si utilizza il termine asindeto che in fondo viene dalla tradizione retorica e ci dice di una mancanza come se fosse qualcosa di anomalo mentre nella nostra esperienza di parlanti sappiamo che forse questa è un po' la regola no? Soprattutto diciamo nel parlato quotidiano e gli studi sulla testualità hanno ridato oggi una nuova dignità a questa forma di collegamento che viene chiamata appunto sequenza testuale o anche giusta posizione di frasi adesso vorrei fare con voi un piccolo esperimento lo scorso anno vi avevo presentato delle immagini delle foto per far vedere come verbi diversi abbiamo visto appunto se vi ricordate l'immagine di una scena in cui c'era la pioggia avevamo detto qui piove poi avevamo visto un gatto che dormiva allora abbiamo detto ah questa qui il gatto dorme poi avevamo visto qualcuno che lavava la macchina e abbiamo detto ah questo è una scena descritta da un verbo bivalente e così via e ritorniamo su questo uso delle foto e anzi vi invito poi mi ho già parlato appunto con con Samuella Brunamonti che con voi al termine farà un percorso diciamo applicativo didattico vi invito a utilizzare anche i video anche nella didattica a distanza è un modo anche coinvolgente per i ragazzi che normalmente sono costretti a nascondere il telefonino invece in questo caso possono utilizzarlo per realizzare dei brevi video allora io siccome per aggirare la mia imperizia ho preferito qui fare delle foto però delle foto che rendono un po' l'idea di quello che succede perché appunto volevo riflettere con voi non solo sulla frase semplice che può essere descritta da un verbo e quindi anche da un'immagine statica ma anche sulla frase complessa quindi eventualmente giusto appongo due immagini per farvi capire che sta succedendo qualcosa ma lo stesso effetto vi dicevo anzi molto meglio può essere ottenuto con un video allora vi presento un'immagine è una foto che ho scattato qui sul mio tavolo e vi chiedo allora qualcuno se vuole può aprire il microfono oppure se preferite utilizziamo la chat io visualizzo i messaggi che voi scrivete in chat se io vi dicessi di descrivere il processo che cos'è il processo il processo è il termine con cui si indica un po' tecnicamente il significato di una frase perché in una frase succede qualcosa abbiamo detto lo scorso anno è come se venisse messo in scena un piccolo dramma questa è la metafora che usa anche appunto Tenier che è l'iniziatore della grammatica valenziale quindi il significato della frase che abbiamo detto deve essere un significato compiuto completo può essere appunto chiamato processo un processo verbale in cui il verbo funziona da canovaccio allora descriviamo insieme un processo cioè formiamo una frase compiuta completa che descriva quello che succede in questa in questa immagine allora questa sono io questa è la mia mano quindi voi potete dire cristiana però insomma l'importante non è partire dal soggetto adesso l'importante è capire che cosa succede quindi mettere a fuoco il verbo e intorno al verbo gli elementi qui vedete una mano e poi vedete delle pagine allora ditemi se preferite prendere la parola oppure scrivere sulla chat aspettate che io tro cerco aspettate non trovo più eccolo qui no ritorno alla presentazione ecco cristiana sta sfogliando un libro appoggiato sulla scrivania cristiana sfoglia un libro vedete che è molto interessante perché la mano sfoglia il libro quasi possono già fare tante belle riflessioni allora innanzitutto cristiana sfoglia un libro è una frase diremmo una frase minima ecco qui allora qualcuno ha capito che il libro è di Rodari perché si chiama vedete grammatica della fantasia il meridiano di Rodari è questo sfoglia un libro di Rodari perché vedo che nessuno ha usato il libro legge il verbo leggere forse perché vedete appunto solo la mano quindi vi siete concentrati appunto sull'azione questo è molto interessante vedete il libro è sfogliato da cristiana allora questo tipo di riflessione innanzitutto vi permette di capire se dipende ovviamente se voi avete già parlato della frase minima quindi la frase in cui io mi concentro solamente sugli elementi che sono in gioco qui c'è qualcuno che c'è una persona mettonemicamente la mano e c'è un libro quindi qual è il verbo che collega questi due elementi può essere sfogliare può essere anche leggere perché se io poi prolungo quella mano vedo una persona che di solito un libro lo sfoglia anche per leggerlo quindi sfogliare e leggere vanno bene entrambi qualcuno ha detto però un libro di Rodari quindi ha aggiunto qualcosa ha specificato di che libro si tratta si potrebbe dire anche al posto del libro legge grammatica della fantasia qualcuno dice le pagine del libro di Rodari qualcuno usa il verbo reggere se non ascoltassimo il video con Cristiana si direbbe che è una mano però se voi dite una mano allora una mano sfoglia una mano legge qui la mano se voi ci pensate non può essere un agente è un po' come quando io dico la porta la chiave apre la porta non è la chiave che apre la porta la chiave è lo strumento chi apre la porta è la gente che maneggia la chiave così qui la mano appunto può essere è sempre la mano di una persona leggere come sfogliare è un verbo che richiede un soggetto animato sì la mano è animata ma potrebbe essere anche una mano meccanica qualcuno molto bene molto bene perché vedete che qui abbiamo usato un pronome certo perché in posizione di soggetto si può usare un pronome anzi il pronome è forse più del nome ha una capacità referenziale di individuare un referente visto che ci sono degli anelli vabbè gli anelli li portano anche gli uomini però potremmo anche dire sono tanti sono un po' tradizionali potremmo anche dire lei adesso le mie unghie sono corte però se fossero tinte diremmo lei andiamo per stereotipi lei appunto legge il libro sfoglia il libro e ho visto prima che c'era anche qualcosa di interessante sempre a proposito di frase diciamo ridotta all'osso lei legge un libro cristiana sfoglia un libro oppure già frase sempre semplice perché stiamo parlando sempre di frase in cui c'è un solo verbo che sia sfogliare che sia leggere però che piano piano si si ingrandisce per esempio qualcuno aveva detto cristiana sta sfogliando quindi una perifrasi che evidenzia l'aspetto l'aspetto del verbo quindi di un'azione che è proprio vista nel suo farsi stare più gerundio però diciamo che è sempre un tempo presente e poi aveva detto sulla sua scrivania quindi aveva messo anche un elemento del della scenografia potremmo dire no? cioè una circostanza dove lo fa? lo fa sulla sua scrivania potremmo anche dire nel suo studio adesso se io allargassi insomma voi vedreste che appunto dietro c'è la libreria insomma ci sono libri un po' dappertutto comunque è uno stanzino in cui ci siamo io e i miei libri quindi allora possiamo accordarci per il momento comunque sulla frase cristiana sfoglia un libro oppure cristiana legge un libro io avevo poi vedrete che utilizzerò questa frase per collegarla ad un'altra e formare quindi sta girando la pagina per leggere il testo ah questa è già una frase una frase complessa cioè sta girando pagina per leggere il testo perché questo effettivamente è il frontespizio allora qui è vero abbiamo già collegato l'azione al suo fine è vero che le azioni compiute da un agente umano spesso sono azioni finalizzate se io sfoglio il libro può essere anche per apprezzarne la consistenza magari le pagine del meridiano effettivamente sono così sottili che potrei voler oppure fare il rumore però di solito si sfogliano per leggere e quindi abbiamo collegato l'azione al suo fine andiamo però per gradi allora intanto abbiamo descritto quello che succede qui c'è qualcuno che sfoglia un libro o comunque legge un testo bene adesso ne riscriviamo un altro qui è sempre uno solo no? è sempre uno solo il processo però ve l'ho suddiviso in due parti per farvi vedere esattamente cosa stavo facendo cioè ho preso questo libro infatti diciamo se fosse stato un video sarebbe stato così ho preso questo libro e l'ho messo qui quindi come descriviamo quello che che accade qui sempre una frase sola è una sola frase che basta sempre cristiana oppure lei oppure qualcuno che cosa ho fatto? ripone un libro sì noi il libro già lo conosciamo perché l'abbiamo l'abbiamo introdotto prima quindi possiamo dire il libro ripone il libro nella custodia giusto e qualcuno dice ha tolto il libro dalla custodia allora è molto interessante questo ha tolto e ripone perché sono due azioni converse no? allora se io lo metto nella custodia lo ripongo se io lo tolgo dalla custodia lo estraggo sono due movimenti quindi a seconda che io guardi questa serie diciamo da sinistra a destra o da destra a sinistra cambia il verbo che descrive questa azione e prima qualcuno di voi ha detto il libro a proposito dell'immagine precedente il libro è sfogliato da cristiana o dalle mani quindi perché voi avete detto il libro? perché qui non si vede la persona allora giustamente voi avete detto in primo piano c'è il libro allora io assumo il libro come punto di prospettiva come punto di partenza della frase la frase passiva serve proprio per questo cioè serve per creare all'interno della frase una prospettiva che parte dall'oggetto bene allora io però appunto vi ho messo prima questa frase poi l'altra proprio per farvi capire qual era la direzione dell'azione ed è un riporre riporre nella custodia non so perché io ho scritto prima ho messo il fodero del libro che invece è giustamente la custodia e vabbè quindi mi scuserete l'inappropriatezza lessicale nelle slide più avanti quando appunto le scriverò dunque vediamo un attimo nella chat che cosa avete che altro avete scritto adesso eccola qui la chat naturalmente potete anche prendere la parola se vedete che mi perdo ah qui voi avete detto ah qualcuno ha già fatto cristiana dopo aver sfogliato il libro lo ripone nella custodia è molto interessante ci arriviamo a questo quindi prima vi volevo far costruire due processi semplici quindi prima l'ho fatto con una sola immagine poi l'ho fatta con due però la richiesta la consegna era sempre la stessa cioè costruite una frase che descriva quello che sta succedendo in fondo quello che sta succedendo vedete succede una cosa sola c'è una mano quindi c'è una persona c'è un libro ok c'è anche il fodero del libro infatti noi abbiamo detto qualcuno ha detto solo ripone il libro però noi vediamo due cose vediamo il libro e vediamo il suo fodero quindi è corretto dire ripone il libro nel fodero i verbi diciamo che fanno parte della famiglia di mettere si mette qualcosa in un posto quindi sono verbi trivalenti però è vero che il riporre forse il riporre è uno di quei verbi in cui si può anche tacere il terzo il terzo argomento se invece di commettere mette il libro no e la frase monca quindi prima vi ho presentato una scena costruita sicuramente intorno a un verbo bivalente soggetto oggetto in questo caso per il tipo di immagine che vedete sarebbe più appropriato utilizzare un verbo trivalente quindi la persona il libro e il suo fodero la sua custodia però potete anche sintetizzare dicendo ripone il libro perché quello è il suo posto in riporre c'è già l'idea di rimettere a posto allora mettere nel posto il posto del libro è la custodia ovviamente nel caso di questi libri che hanno una custodia adesso passiamo ho visto Cristiana che riponeva il libro nella custodia molto interessante ci torniamo subito dopo quindi qui voi assumete il vostro punto di vista di chi vede che cosa qualcosa che succede potreste dire anche ho visto che Cristiana riponeva un libro allora se io dico ho visto che Cristiana riponeva un libro quel che è una congiunzione e introduce una frase oggettiva è completiva che cosa ho visto ho visto questo fatto ho visto questa scena che è Cristiana però voi avete invece mi avete scritto ho visto Cristiana che riponeva il libro quindi quel che è una frase relativa che si colloca lì come espansione del nome Cristiana Cristiana impegnata ho visto Cristiana impegnata in quest'azione che cosa stava facendo stava riponendo eccetera eccetera quindi sono modi diversi di dire la stessa cosa utilizzando la possibilità che abbiamo e che è massima davvero nel campo della frase complessa possibilità di usare le risorse della lingua per costruire per costruire il processo nel modo che riteniamo più efficace per la comunicazione è chiaro che se voi mi dite ho visto Cristiana che metteva beh è come se voi metteste proprio puntaste la luce su di me quindi vuol dire che voi siete alle mie spalle e vedete quello che sto facendo vedete me che sto facendo una cosa oppure vedete che cosa vedete in generale magari state guardando siete anche un po' più indietro e vedete che io faccio una certa cosa sono appunto prospettive diverse sullo stesso processo sullo stesso evento su qualcosa che sta succedendo allora come vedete io sto facendo la stessa azione quindi ripongo il libro nel fodero rimetto metto il libro nel fodero ma nel frattempo contemporaneamente succede qualcos'altro questo è il mio cane si chiama A-me-mi e e cosa sta facendo poverina è una femmina la chiamo il cane perché la cagna un po' tranquilla e beata lei dorme allora io adesso posso scegliere in che modo descrivere i due fatti che stanno succedendo in questa immagine è una scena complessa appunto quindi anche qui troppo che sia interessante fare questo lavoro in classe così come è interessante per me farlo con voi sia pure attraverso il mezzo della chat perché dobbiamo perché dobbiamo verbalizzare un messaggio e possiamo mettere alla prova diverse risorse e confrontarci e confrontarci anche sugli effetti che scelte diverse possono avere allora a me mi dorme e Cristiana mette il libro nel fodero, pensateci un attimo, potete annotare, prendere nota nel vostro, oppure intanto scrivere qualcosa sulla chat, perché vedremo che ci sono modi diversi, strategie diverse. Ma ritorniamo, aspettate, vediamo un attimo. Ah, ecco, in questa slide vediamo sempre due processi che sono consecutivi, uno dopo l'altro. Prima abbiamo visto due processi contemporanei, cioè nel frattempo, contemporaneamente io metto a posto il fodero, ma il cane che dormiva continua a dormire. Invece adesso, vedete l'immagine che avete visto prima, cioè io prima lo sto leggendo, dopodiché ho finito di leggere, e basta, smetto e lo rimetto a posto. Allora qui, anche qui avrò a disposizione strategie diverse, perché posso decidere da quale partire. Cioè posso dire che metto a posto il libro dopo averlo letto, oppure posso dire che leggo, dopodiché lo metto a posto. E a seconda, diciamo che qui gli elementi in gioco sono molti e poi li vedremo, uno alla volta. Comunque posso trovare soluzioni diverse per descrivere queste due azioni consecutive. Non sono più contemporanee, sono consecutive e sono compiute dalla stessa persona. Per cui vedremo che nel collegarle tra di loro, inevitabilmente, se il soggetto è stato presentato nella prima frase, nella frase subordinata, non ci sarà bisogno, ci sarà l'ellissi del soggetto. E anche il libro, magari abbiamo detto un libro, oppure abbiamo detto il libro di Rodari, ma nella frase subordinata potremmo riprendere quella espressione con un pronome. E questo, appunto, trovo che sia interessante perché noi nel descrivere con una piccola frase complessa, con un piccolo periodo, questa sequenza di azioni, è chiaro che non solo scegliamo certe risorse, ma giochiamo con la lingua, utilizziamo anche risorse testuali come l'anafora, non solo il collegamento grammaticale. Lo facciamo senza accorgersene, perché siamo dei parlanti competenti che nello sfruttare le risorse della lingua puntano anche all'economia e all'efficacia. Quindi non stiamo sempre a ripetere, Cristiana legge un libro e poi Cristiana rimette il libro nella... no, diciamo, magari diciamo Cristiana legge un libro e poi lo rimette a posto. Comunque, vedremo appunto tutte queste diverse possibilità o almeno quelle che io ho isolato. Allora, vi dicevo, prima proviamo a collegare le due azioni contemporanee. Cristiana ripone il libro nel fodero, scusate, avevo dovuto dire nella custodia, mi è venuto fodero. E a me mi dorme. Allora, sono due frasi semplici, siete d'accordo? La prima è costruita intorno a un verbo trivalente, almeno in questa costruzione. La seconda, a me mi dorme, intorno a un verbo monovalente, quindi non solamente il soggetto. Quindi sopra, soggetto cristiano, oggetto diretto, il libro nel fodero, diciamo che è il terzo argomento, un'espressione di luogo. Genericamente possiamo dire che un oggetto indiretto, ma tecnicamente l'oggetto indiretto è l'elemento che può essere ripreso da un pronome dativale. Quindi se avessi detto Cristiana dai il libro a Maria, quello sarebbe stato propriamente un oggetto diretto. Nel fodero è un'espressione di luogo che però funziona come argomento del verbo. Riporre verbo trivalente e dormire verbo monovalente. Qual è la consegna? La consegna è collegarli, unirli, formare un periodo oppure un piccolo testo. Perché dico un periodo o un piccolo testo? Perché dopo mi soffermerò anche su questa distinzione. Cioè periodo, diciamo propriamente detto, il periodo propriamente detto dovrebbe prevedere al suo interno o la coordinazione o la subordinazione. Quando c'è giusta posizione, cioè le frasi sono affiancate ma non sono collegate grammaticalmente, abbiamo a che fare con una sequenza di testo, anche se è un micro testo. Perché le strategie sono testuali, non sono più grammaticali. Sono lissi, l'anafora, la presenza di avverbi anaforici e quindi comunque strategie testuali. Allora, la scelta tra virido e sequenza. Qui ci sono delle animazioni, vediamo se funzionano. Allora, questa è una possibilità. Cristiana ripone il libro nel fodero mentre a me mi dorme. Quindi sono partita dall'alto, vi ricordate, per scendere in basso. Cristiana ripone il libro nel fodero, nella custodia, scusate, mentre a me mi dorme. Che cosa ho fatto qui? Ho utilizzato la forma periodo, ho utilizzato la subordinazione perché c'è una congiunzione subordinante che è mentre. La frase è subordinata, mentre a me mi dorme. È una subordinata temporale, vedete c'è l'uso dell'indicativo. I soggetti sono diversi. Cristiana fa una cosa, a me mi ne fa un'altra. E questo è quanto. Però io avrei potuto dire anche al contrario, a me mi dorme mentre Cristiana ripone il libro nel fodero. Quindi che cosa cambia? Cambia la prospettiva, cambia l'elemento che noi vogliamo promuovere a tema. Quindi cambia l'elemento che vogliamo mettere sotto gli occhi. Che cosa è che ci interessa di più in quell'immagine? Il cane che dorme e che non viene disturbato dall'azione umana? Oppure ci interessa quello che fa la persona? E poi il resto lo lasciamo appunto sullo sfondo. Questa è un'altra possibilità. Cristiana ripone il libro nel Fodero, la custodia. E a me mi intanto dorme. Qui abbiamo usato una congiunzione coordinante e ho messo tra parentesi l'avverbio intanto, che è un avverbio temporale, ma è definito avverbio anaforico perché intanto vuol dire contemporaneamente, quindi rimanda all'indietro a un evento che ho già presentato nella frase precedente. Cristiana ripone il libro nel Fodero e a me mi dorme. I due eventi sono messi sullo stesso piano, quindi non c'è più diciamo Cristiana sopra e a me mi dorme sotto. Ma sono due eventi messi proprio sullo stesso piano anche dal punto di vista grammaticale. L'avverbio, questo avverbio temporale intanto, contemporaneamente, nel frattempo possiamo usare anche una locuzione, rinforza, esplicita la relazione temporale che è di contemporaneità. Però se io uso è evidente che se li metto così sullo stesso piano vuol dire che non c'è un prima e un dopo, sono contemporanei. Questa è un'altra soluzione, cioè la soluzione testuale. Io non ricorro a congiunzioni, quindi non c'è niente di grammaticale, uso la punteggiatura. Cristiana ripone il libro nel Fodero, appunto, quindi per questo dico che non c'è un periodo, perché la frase si ferma. Qui ho una frase semplice e poi ho un'altra frase semplice giusta apposta. Nel loro insieme formano una sequenza di testo perché? Perché è chiaro che sono collegate. E chi è che le collega? Le collega l'inferenza, il ragionamento coerente. Se poi io voglio aiutare l'interprete dirò nel frattempo intanto e allora con questo avverbio anaforico esplicito la relazione che c'è dalla prima frase e la seconda. Però ecco, dovete pensare comunque a queste frasi come didascalia di quell'immagine che avete visto. Per questo io posso inferire che questi due fatti sono legati l'uno all'altro. E che strategia ho usato quindi nella giusta posizione? Il segno di punteggiatura, in questo caso il punto e eventualmente questo avverbio anaforico di rinforzo. Però vedete l'avverbio anaforico è sempre un di più, un di più che noi mettiamo per aiutare, per esplicitare, per aiutare l'interpretazione e quindi per esplicitarla. Quindi tre strategie, forma periodo ma utilizzo della subordinazione che crea un primo piano, uno sfondo. Forma periodo coordinazione, quindi diciamo è un unico piano, oppure la giusta posizione. Anche qui abbiamo un unico piano e per di più non c'è il ponte. Il ponte lo dobbiamo stabilire noi. Adesso facciamo lo stesso lavoro con le due frasi che dalle immagini avevamo capito essere riferite a due eventi non contemporanei ma consecutivi. Cristiana legge un libro, Cristiana ripone il libro nel fodero. Vedete che già qui in qualche modo le ho collegate perché dal punto di vista testuale vedete prima ho scelto l'articolo in determinativo un e poi visto che l'avevo già presentato ho detto il libro. Allora quali sono qui le cose si fanno un po' più complesse però diciamo che le strategie alla fine sono sempre tre. Allora Cristiana ripone il libro nel fodero dopo averlo letto. Allora qui il soggetto delle frasi è lo stesso. Prima avevamo Cristiana, adesso il soggetto è sempre Cristiana quindi la prima cosa che faccio è evito di ripeterlo, non dicevamo prima. Anche l'oggetto, il libro, l'ho già detto quindi lo riprendo tramite il critico lo. E proprio perché il soggetto è lo stesso posso usare la forma implicita con il verbo all'infinito. Io posso anche dire dopo che lo ha letto. Non è sbagliato. Cristiana ripone il libro nel fodero dopo che lo ha letto. Però vedete dopo averlo letto è una forma molto più rapida. Bene, che cosa ho fatto? Quindi ho utilizzato il periodo, la strategia della subordinazione. Di nuovo un primo piano e uno sfondo, non solo, ma un primo e un dopo. Utilizzo la congiunzione subordinante dopo, appunto. C'è il risidio del soggetto, c'è la forma implicita della frase, c'è questo critico anaforico, lo e attenzione c'è anche l'utilizzo di una forma verbale, avere letto. Quindi non è semplicemente l'infinito, la forma implicita, ma è un infinito passato. Vuol dire che c'è un rapporto appunto di anteriorità con quello che succede prima. Prima lei ha letto il libro, avere letto, quindi infinito passato, quindi anteriorità rispetto all'azione principale, ripone il libro. Prima lo ha letto e dopo. Tra l'altro vedete che questo è interessante perché la congiunzione dopo introduce in realtà l'evento antecedente. Quindi si possono fare anche delle piccole riflessioni quasi filosofiche con i ragazzi. Ma ovviamente io posso anche invertire. Io posso dire dopo aver letto il libro, Cristiana lo ripone nel fodero. E qui è un po' come prima, no? Cioè la strategia è sempre la stessa. Ho spostato le frasi, ho promosso, ho messo nella prima posizione, che è quella diciamo di maggior impatto, di maggior rilievo, l'azione che effettivamente è avvenuta prima. Cristiana ha letto il libro, dopo lo ripone nel fodero, quindi io riordino la sequenza proprio seguendo l'ordine cronologico. Dopo aver letto il libro o dopo che ha letto il libro, Cristiana lo ripone nel fodero. Potrei anche dire dopo che Cristiana ha letto il libro, lo ripone nel fodero. In ogni caso non sto a ripetere due volte il soggetto. Prego. C'è qualcuno che voleva fare una domanda? No? Va bene. Allora qui siamo all'altra strategia che è la coordinazione. Cristiana legge il libro e poi lo ripone nel fodero. Anche qui la coordinazione, il fatto che le... Allora qui però la sequenza, cioè qui dobbiamo per forza nella coordinazione mettere prima la frase che descrive l'evento che è successo prima e dopo la frase che descrive l'evento che è successo dopo. Non li possiamo scambiare proprio perché sono sullo stesso piano e allora l'ordine lineare deve riflettere iconicamente l'ordine della successione temporale di fatti. La congiunzione è e, c'è l'elissi del soggetto, va bene, c'è l'anafora pronominale, lo, e c'è un avverbio, un avverbio temporale che esplicita questa relazione appunto che è di successione. E poi c'è la strategia testuale, quindi sempre qui Cristiana legge un libro, quindi, oppure poi, lo ripone nel fodero. Successione temporale, segno di tipoteggiatura, qui abbiamo una virgola, sia la virgola, sia il punto, sia i due punti possono avere una funzione testuale che è una funzione proprio di collegamento, ma di collegamento in assenza di elementi grammaticali come le congiunzioni. Gli avverbio anaforici, vedete, si possono mettere sia al servizio della coordinazione, sia al servizio della giusta posizione, perché io dico che quindi è un avverbio temporale anaforico. Sia Adriano Colombo, nel suo volume che si chiama La coordinazione, tutti da qualche parte adesso, sia in questo libro della stessa serie che si chiama L'analisi del periodo, e comunque appunto anche nel manuale e nella grammatica, si fa una distinzione tra le congiunzioni coordinanti propriamente dette, che sono e, e la sua controparte negativa, né, ma, e o. Quindi la congiunzione diciamo copulativa a quella avversativa e poi o, che può avere sia appunto il valore di alternativa più o meno, insomma, può essere un po' un vel o un out, quindi e, né, ma, e o. Le altre, quelle che le grammatiche classificano come congiunzioni, conclusive, bla 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 bla, in realtà funzionano anche come avverbi e soprattutto hanno un valore anaforico. Per questo almeno una parte, no, della linguistica moderna le le tiene distinte. E qui vedete che appunto quindi è un po' messo sullo stesso piano di poi. Allora, c'è periodo e periodo perché? Il periodo propriamente detto è quello in cui troviamo comunque almeno una frase subordinata alla frase reggente. Nel periodo c'è una gerarchia, c'è sono dei primi piani, c'è sono degli sfondi, c'è sono frasi che si dispongono su livelli diversi. Il periodo è una struttura complessa, non solo perché etimologicamente ci sono frasi che si abbracciano tra di loro, ma perché, come vi dicevo, è una struttura che nasce di fatto con la lingua scritta e dal punto di vista del ricevente richiede richiede una capacità di memoria, una capacità di analisi, di saper gestire strutture stratificate, stratificate e gerarchiche, e di riconoscere subito questo gioco di primi piani e di sfondi. E invece la giusta posizione, appunto adesso qui ho un po' fatto come nella grammatica, prima vi ho fatto scoprire le diverse strategie e adesso arriviamo un po' alle definizioni. Quindi giusta posizione non è più quell'eccezione che magari chiamavamo asindeto in questo termine che poi indicava anche una figura retorica della disposizio, non è un'eccezione, anzi è una strategia, una strategia che se volete alcune volte può anche indicare sciatteria, ma in tanti altri contesti invece è proprio, può essere anche una scelta stilistica, anzi direi che anche nei giornali di alcuni corsivisti, anche di un certo rilievo, si afferma sempre di più questo stile che viene definito a coupé, ma di fatto è uno stile che si serve sempre meno degli elementi, appunto, degli strumenti grammaticali di collegamento e si affida sempre di più alla punteggiatura e alle strategie testuali. Qual è la differenza fondamentale? Che nella giusta posizione le frasi rimangono autonome, quindi risparmiamo in elementi di collegamento, congiunzione e preposizioni, risparmiamo spesso anche in tempi verbali onerosi, perché abbiamo visto che molto spesso quando iniziamo a collegare le frasi all'interno del periodo, sia nelle completive, a promesso soggettivo e oggettive ci vuole il congiuntivo e spesso anche nelle subordinate propriamente dette, per esempio nelle finali, nelle condizionali, nelle concessive, quindi il periodo è comunque più oneroso, anche dal punto di vista proprio del, diciamo, morfologico, quindi delle strategie che oltre alle congiunzioni dobbiamo utilizzare. La giusta posizione però richiede una collaborazione da parte dell'interprete, perché io il lavoro poi lo faccio fare a lui o a lei, se tolgo le congiunzioni poi tocca all'interprete stabilire il nesso. Viene valorizzata invece l'anafora, quindi tutto l'insieme delle strategie, soprattutto pronomi, ma possono essere anche nomi incapsolatori e altre appunto risorse e valorizzata anche la punteggiatura, che non ha quel valore che spesso viene presentato per primo anche nell'insegnamento di guida alle pause nella lettura, anzi direi che forse questo è un valore anche secondario, perché la punteggiatura è soprattutto un'indicazione per l'occhio, per l'occhio che deve gestire sulla pagina una struttura complessa e deve subito capire qual è l'architettura, individuare per esempio un inciso, capire che magari c'è una relazione tra due frasi, se noi vediamo due punti subito siamo portati a mettere in relazione la frase che segue due punti con quella che precede, anche se quella che segue non è una battuta di dialogo oppure un punto elenco. Allora, ritornando un attimo alla nostra frase complessa, quindi lasciando la giusta posizione un po' sullo sfondo, direi che abbiamo già superato un'ora, quindi devo andare un po' più veloce. Allora, qui vi ho messo due immagini, quella sopra vuole rappresentare, di queste due mani vogliono rappresentare la coordinazione, quindi è un collegamento paritario, io do la mano a tetula, dai la mano a me, invece sotto c'è qualcuno che prende la mano dell'altro per tirarla. La foto sopra è una metafora visiva della coordinazione, quella sotto della subordinazione, vedete che qui ho ribadito il concetto per cui le congiunzioni coordinanti forti, quelle propriamente dette, sono fondamentalmente quelle che o uniscono due eventi o li disgiungono oppure li oppongono, stabilendo appunto un rapporto avversativo. Bene, congiunzioni, preposizione e congiunzioni sono le strategie grammaticali al servizio della subordinazione, ma attenzione, in alcuni casi, la congiunzione e la preposizione non c'è, ma c'è un uso del tempo verbale che mi fa capire che c'è una relazione di dipendenza. Va bene, questo l'abbiamo già visto, ve l'ho già detto, quindi la distinzione tra le congiunzioni coordinanti propriamente dette e i cosiddetti avverbi anaforici, tuttavia, ovvero, infatti, dunque, perciò. E anche la... possiamo parlare anche di subordinazione propriamente detta perché diciamo che le subordinate vere, vere e proprie, sono non tanto le complettive, quelle argomentali, che occupano proprio la posizione di un argomento del verbo, come le soggettive e oggettive, che già migliorire in una grammatica degli anni 40, diceva, sono compenetrate nella struttura della reggente, cioè non si possono staccare, completano il verbo. E invece le altre frasi, che sono al di fuori del nucleo, ed esprimono le circostanze temporali, causali, eccetera. Cosa ancora diversa sono le frasi relative che abbiamo visto si limitano a espandere un nome. Allora, qui vi propongo appunto delle altre immagini proprio per provare anche magari in classe a mettere a fuoco queste differenze tra i diversi modi di costruire una frase. I modi, vedete, sono tutti quanti accomunati dall'idea di carico, cioè c'è un carico pesante da portare. Quando c'è un carico informativo, concettuale, pesante, allora ricorriamo al periodo, abbiamo visto che possiamo anche trovare la scorciatoia della giusta posizione, ma adesso mettiamoci nell'ottica comunque del periodo, perché è giusto che la scuola educhi anche alle forme più complesse di espressione e di collegamento tra tre processi. Allora, qui vedete una macchina che semplicemente deve portare un piccolo carico in più e lo affida, vedete, a un elemento che è messo un bagagliaio aggiuntivo. Questa, diciamo, che è l'idea che ho associato alla frase relativa, l'immagine che ho associato alla frase relativa. Poi, in questo camioncino, vedete che c'è un carico che non si può staccare dalla motrice, sono compenetrati l'uno nell'altro. Poi c'è il tir, in cui, diciamo, c'è la motrice che è comunque staccabile e c'è l'autotreno. Adesso li vedremo, appunto, uno alla volta e sono tutti quanti mezzi pesanti, in particolare, appunto, questi tre ai quali ricorriamo a seconda anche della natura, dell'importanza del carico. In ogni caso, è molto importante quando affrontiamo quella che tradizionalmente viene chiamata analisi del periodo, cioè che affrontiamo, diciamo che ci mettiamo proprio nell'ottica di guardare alla struttura e quindi di capire a quali strategie ci stiamo affidando e dove collochiamo gli elementi, nel nucleo, nella periferia, capire, insomma, il punto d'attacco. Cioè, questa frase, dove si aggancia? Si aggancia a un nome, e allora sarà una relativa, si aggancia al solo verbo, e allora può essere una completiva, se è un argomento del verbo, oppure magari può essere una frase al gerundio che si limita ad arricchire il verbo facendoci capire il modo dell'azione, oppure è una frase che si attacca alla frase reggente nel suo complesso e quindi ci fa vedere degli elementi, diciamo, della scenografia. Questa è la prima, diciamo, cosa, distinguere il centro dalla periferia e poi andare a vedere più da vicino quali sono le strategie. Abbiamo visto la forma della subordinata è una forma esplicita, è una forma implicita, c'è una preposizione, c'è una congiunzione, di che tipo è? E oltre appunto al modo verbale, ci sono frasi che ci consentono di scegliere tra indicativo e congiuntivo, ma c'è anche un discorso di tempo verbale che spesso è collegato alla consecutio temporum, cioè alla necessità che a volte abbiamo di far capire che c'è un rapporto di anteriorità-posteriorità tra due azioni. E questo poi ci porta anche a riconsiderare i tempi verbali, che per esempio nel caso dei tempi del passato per l'italiano prevedono un sistema molto ricco con tempi deittici, quindi quelli che si limitano a dirci presente, passato, futuro, e di tempi anaforici, che rispetto al presente, al passato, al futuro, ci fanno intravedere un prima. E sono tempi che si usano solo nel periodo, i tempi anaforici, i vari trapassati, quindi sono tempi per eccellenza delle frasi dipendenti. Bene, allora qui avete le relative, le relative poi meritano un approfondimento perché sono di due tipi, e la punteggiatura qui ci aiuta, e viceversa, cioè capire come funzionano le relative ci aiuta a mettere correttamente la punteggiatura. Allora qui posso dire la macchina nella foto, la macchina nella foto, che è una 500, ha un baule aggiuntivo. Questa frase è una frase relativa, vedete che è inserita tra due virgole, forma una sorta di inciso, e la chiamiamo relativa attributiva perché tutto sommato, io potrei pure toglierla, nel senso che io comunque la macchina nella foto la identifico, poi che è una 500, non è un'informazione in più, siccome l'ho ritagliata in modo tale per cui voi non vedete cosa c'è scritto sotto, allora ve lo dico, se non la riconoscete, è una 500L. Se io invece dico questa è la macchina nuova che ho comprato e dico ah, la macchina che ho comprato ha un baule aggiuntivo, allora questa frase è una frase restrittiva, cioè è una frase che mi aiuta a restringere la classe di oggetti individuata dalla macchina. La macchina, ma la macchina quale? Quella che ho comprato. Allora qui non metterò la punteggiatura. E ricordate che molto spesso noi diciamo, anche per distinguere, no? Per insegnare a distinguere il che relativo, il pronome relativo dal che congiunzione, diciamo, è importante vedere se si può sostituire con il quale, ma attenzione, il quale noi lo possiamo usare solo se il pronome relativo ha la funzione di soggetto. per esempio, il giardiniere che cura l'orto botanico, il giardiniere il quale cura l'orto botanico, ok, ma se io dico qui la macchina che ho comprato, allora la macchina soggetto, ma che ho comprato, che è riferito alla macchina, ma cambia il caso, perché è oggetto diretto di comprare, allora qui non posso usare il quale, non posso dire la macchina la quale ho comprato, no, errore. Quindi ci sono anche delle restrizioni nell'uso dei pronomi. Poi ovviamente sul che ci sarebbe tutto un discorso da fare per descrivere il funzionamento del cosiddetto che polivalente. Certo, l'area dei pronomi, magari poi ne parlerete col professor Tavoni, è un'area critica, perché è un sistema molto molto complesso, quello dell'italiano, che ancora ha relitti di caso, ha forme toniche, forme atone, ha distinzioni che guardano al carattere animato o inanimato, del referente, al genere, nel caso si tratti di referenti animati, insomma, e poi tutti quei fenomeni di rassestamento che conosciamo. Bene, qui insomma abbiamo già visto le completive, soggettive, oggettive, questa appunto è l'immagine e ricordiamoci anche qui appunto la distinzione tra frasi implicite e frasi esplicite. Le implicite si possono usare solo quando il soggetto è identico, il verbo che si userà è l'infinito. Nelle esplicite o troviamo il che per introdurle, ma può anche non esserci, per esempio io posso dire penso vada bene, anziché dire penso che vada bene. E qui si potrebbe aprire un capitolo sull'uso dell'indicativo o del congiuntivo perché sicuramente il congiuntivo esprime quei valori di possibilità nelle subordinate propriamente dette ma nelle complettive a volte la scelta è semplicemente una scelta di registro. Poi l'autotreno va bene, l'autotreno è quello diciamo delle subordinate propriamente dette causali, finali, eccetera, eccetera quelle che tipicamente classifichiamo proprio con riferimento al contenuto concettuale perché qui è pertinente perché noi lo usiamo proprio per aggiungere dei contenuti in particolare appunto delle relazioni relazioni di causa relazioni di fine relazioni temporali eccetera ci sono delle congiunzioni più o meno specializzate anche delle preposizioni più o meno specializzate noi perché lo associamo alla causa però poi se guardiamo da vicino già Aristotele lo diceva diceva quando io chiedo perché fai questa cosa beh allora può essere quel perché può vertere su su vari cioè su una causa su un fine insomma perché poi dobbiamo andare a vedere all'interno del periodo se c'è un congiuntivo sarà un fine se c'è un indicativo sarà una causa quindi perché si ci orienta sulla natura della relazione ma non è proprio specifico e sebbene invece è molto chiaro sebbene e soprattutto è chiaro che vuole il congiuntivo anche se vuole l'indicativo anche se facciamo tardi eccetera sebbene siamo arrivati in ritardo qui cognitivo e addirittura in alcuni casi ci sono delle congiunzioni specializzate per la posizione tematica o reumatica cioè prima abbiamo visto per esempio con mentre che io posso dire posso mettere il mentre sia all'inizio della frase sia dopo la reggente cioè posso dire mentre cristiana legge a me mi dorme oppure a me mi dorme mentre cristiana legge con la frase causale se mettiamo la causa o meglio sì se la mettiamo in primo piano io posso utilizzare una congiunzione specializzata come siccome siccome a me mi dorme cristiana parla piano quindi siccome si utilizza proprio per una causa che noi vogliamo mettere subito lì in primo piano e poi ci sono anche le locuzioni che arricchiscono anche di sfumature una relazione adesso su questo non ci concentriamo però vedete che quello che vi dicevo prima cioè la frase complessa è il territorio per eccellenza delle scelte possiamo scegliere innanzitutto possiamo scegliere come costruire la relazione poi quindi mettere sullo stesso piano gli eventi creare un primo piano uno sfondo e poi l'ordine magari in cui rimettiamo il tipo di congiunzione il modo verbale vogliamo usare una congiunzione oppure una locuzione che è sempre più parlante abbiamo tante strategie e magari sul ecco questo spesso a scuola non si fa perché ma cioè non è che non vengano presentate ma vengono messe un po' tutte sullo stesso piano cioè si dice ah la causa si può esprimere con per perché siccome poiché come se fossero tutte quante uguali invece no alcune sono più versatili di altre e non è solo una questione di stile no perché siccome è anche abbastanza colloquiale solo che ha una restrizione proprio sintattica nel nell'uso nel caso del fine beh magari possiamo dire che affinché è un po' più più sostenuta e perché però in realtà nel fine noi tendiamo anche a usare poco perché col congiuntivo cerchiamo sempre di trovare la scappatoia di per più più infinito almeno nel nel parlato e poi ci sono delle altre strutture adesso non vorrei però dilungarmi troppo che sono le frasi interdipendenti cioè quelle in cui ci sono spesso delle congiunzioni correlative oppure comunque una struttura tale per cui ci sono un po' come nelle dipinti medievali due due ante no un po' come quindi c'è un se e ci deve essere un allora anche se l'allora non è presente ma è chiaro che alla protesi deve seguire un'apodosi nel periodo ipotetico oppure le strutture comparative tanto quanto le strutture consecutive che sono delle cause intensificate no tanto tu o no che piove qui abbiamo proprio cioè l'una senza l'altra non si regge non sono non è una relazione come quella delle completive per cui c'è la reggente e un'altra frase che si incastona però sono sono appunto una non può stare senza l'altra allora di questo aspetto della continuità tra frase e periodo in realtà avevamo parlato anche un po' la scorsa volta quindi sorvolo vi lascio i materiali ovviamente si può insistere e l'avevamo visto anche in quegli esempi tratti dalla grammatica all'inizio sul fatto che molto spesso la frase complessa può essere vista come uno sviluppo della frase semplice mi irrita il tuo ritardo il tuo ritardo è un soggetto ed è un sintagma nominale mi irrita che tu sia in ritardo questa è una frase soggettiva attenzione qui il pronome soggetto va espresso obbligatoriamente perché se io dico mi irrita che sia in ritardo sia chi tu o lui o lei perché questo è l'unico caso in cui nella grammatica italiana nel pronome che di solito si può sottintendere va esplicitato per distinguere appunto le forme che sono coincidenti del congiuntivo ebbene poi questi qui vedete altri argomenti un oggetto diretto che diventa una frase un oggetto indiretto che diventa una frase e così via e la sostituzione pronominale ci fa capire qual è la diversa natura so che anche di questo probabilmente avrete parlato con Andreose va bene quindi anche qui l'aggettivo che diventa una frase relativa l'espansione quindi diciamo il complemento che diventa una frase corrispondente il complemento di tempo diventa una frase temporale e la nominalizzazione quindi questa è una strategia che spesso si utilizza anche nei testi burocratici nei testi scientifici di solito aggiunge complessità troppe nominalizzazioni creano anche un addensamento una una difficoltà notevole quindi vanno comunque controllate e va bene qui trovate alcune appunto esplicitazioni alcuni chiarimenti sulla distinzione tra subordinate esplicite e implicite e bisogna sempre ricordarsi che nelle implicite c'è questa coreferenza dei soggetti e in alcuni casi la quando appunto il soggetto è lo stesso la frase implicità è proprio la scelta obbligata ecco qui questi sono i fattori di complessità di cui prima vi parlavo quindi la lunghezza media dell'enunciato ma anche quanti gradi di subordinazione ci sono eventuali incisi l'uso di connettivi un po' dispendiosi perché richiedono il congiuntivo e poi appunto la consecuzione temporum preposizioni congiunzioni eccetera eccetera qui trovate anche appunto degli approfondimenti sulle sulle diverse strategie grammaticali e la distinzione tra strategie diciamo strumenti di collegamento grammaticale e strumenti di collegamento testuale cioè gli avverbi anaforici e la polifunzionalità di che questa parola che spesso è un po' è un po' complicata perché c'è quella distinzione che poi in realtà dal punto di vista teorico in particolare nella prospettiva dei generativisti è anche un po' discussa cioè la natura se sia effettivamente pronome congiunzione o se sia in fondo un complementatore cioè un elemento che introduce appunto una frase complemento che poi può essere di natura diversa comunque che è un po' il risultato di un movimento che dal latino ha portato appunto alla perdita di una grande ricchezza di congiunzioni e alla fine è rimasto questo che che si è prestato a fare tante tante funzioni e che spesso ha dato luogo a nuove a nuove congiunzioni che sono il risultato della fusione no? Magari ben che per che a fin che c'è sempre che dentro e che si trova anche appunto in strutture di focalizzazione quindi strategie che vengono considerate anche un po' delle risorse tipiche del parlato comunque dell'italiano contemporaneo per mettere un elemento per esempio il soggetto in posizione di fuoco è cristiana che legge il libro va bene adesso questo se volete se poi ci sono anche delle domande ci possiamo ci possiamo tornare il ruolo della punteggiatura quindi mi raccomando quando parate della punteggiatura non la introducete con l'ortografia non limitate le funzioni dei segni alla guida per la lettura ma fate subito capire la grandissima importanza che hanno nella costruzione del testo e poi ecco ricordatevi sempre che il periodo è un tipo di costruzione che serve proprio per valorizzare i primi piani e gli sfondi e questo trovo che sia un concetto che poi si può approfondire e per esempio nella grammatica ci sono degli esempi come vi dicevo di periodi manzoniani ma anche per esempio c'è un periodo di Anna Maria Ortese che sfrutta molto le strategie appunto periodali confrontato con un periodo invece di Natalia Ginzburg che aveva una sintassi molto più giusta positiva e vedere queste diverse strategie fa subito capire anche la diversità degli effetti che ovviamente in quel caso sono stilisticamente consapevoli e ricercati e ovviamente in questo caso non c'è un impoverimento ma c'è una capacità di padroneggiare la lingua tanto da usarla per gli effetti che appunto letterari che si cercano e considerare il periodo proprio come anche come strategia al servizio della costruzione di prospettive diverse ci fa poi valorizzare certe anche una sovrabbondanza che c'è nell'italiano di risorse che però è una grande ricchezza però come sempre la ricchezza richiede anche una responsabilità ognuna capacità di saperla usare in modo in modo oculato e un'ultimissima ma veramente così è solo un avvertimento De Mauro diceva appunto che maxima debetur puero reverencia ac grammatica equidem quindi non pretendiamo di fare la frase complessa alla scuola primaria e soprattutto rispettiamo non solo diciamo la mente del bambino che è una mente che ancora deve sviluppare certe capacità di estrazione ma rispettiamo anche la complessità della grammatica perché la grammatica non è una materia che si può risolvere la riflessione grammaticale non si può risolvere nella scuola primaria perché avete visto che ci sono degli argomenti di grandissima complessità e comunque la capacità di gestire queste risorse propria di un parlante esperto competente soprattutto di un parlante che abbia anche una familiarità con tipi di testi diversi e in particolare poi con i testi letterari che sono quelli che sfruttano di più al meglio le strategie periodali poi naturalmente si possono fare anche dei lavori molto belli con i ragazzi più grandi anche un po' su come cambia il periodo nella storia dell'italiano quindi mettere a confronto il periodo di Boccaccio col periodo di Manzoni insomma anche senza fare proprio storia della lingua però rendersi conto di come non solo le singole parole cambiano ma anche le macro strategie possono cambiare a seconda dei modelli a seconda anche naturalmente degli effetti che si vogliono ottenere quindi non iniziare alla primaria qui vi ho messo una frase con quello che il latino si chiamava cum inversum il gatto stava dormendo tranquillamente quando all'improvviso scoppiò il temporale allora se noi chiediamo a un bambino qual è la frase principale il bambino dice scoppiò il temporale perché questo è l'evento che cambia e anche diciamo l'uso del passato remoto mette subito in allerta ma dal punto di vista sintattico il gatto stava dormendo quindi è difficile spesso per un bambino capire quello che è diciamo fondamentale dal punto di vista strutturale e distinguere rispetto a quello che è magari più pregnante sul piano semantico quello che si può fare però è visto che comunque i bambini leggono testi in cui ci sono periodi provare per esempio vedete periodi anche abbastanza lunghi come questi provare appunto a individuare qual è l'elemento importante il responsabile sostiene di non avere capito perché nonostante tu abbia commesso un grave errore ti ostinere a non riconoscere che hai sbagliato mentre dovresti essere consapevole che solo quando avrai ammesso di aver sbagliato potrai riprendere il lavoro che ha interrotto quando la tempesta di neve si fu placata lasciato il bivacco e affiancato dai compagni più coraggiosi il capo cordata serviva verso la vetta con passo deciso per raggiungere la prima del tramonto riuscire a fotografare l'interna catena dei circostanti allora sono piccoli esempi in cui ci si può intanto allenare intuitivamente senza introdurre troppe categorie a riconoscere dove dobbiamo guardare un po' come quando appunto si traduceva dal latino dovevamo cercare di capire dove lo devo prendere questo questo periodo così anche in realtà nella costruzione di una riflessione in italiano nell'italiano come madrelingua sulle strutture complesse possiamo cercare di dipanare la matassa andando a cercare il bandolo va bene io direi che ci possiamo fermare qui altrimenti non c'è più tempo per ecco un impegno concreto questo è un po' un così per fare il verso un vecchio slogan e meno terminologia cioè decidiamo frasi o proposizioni principali o reggente le chiamiamo secondarie dipendenti o subordinate battezziamole in un modo e poi complesse composte giustopposizione sindeto ipotassi paratassi parepotassi insomma una maggiore economia anche nella terminologia aiuta aiuta a mettere a fuoco meglio gli oggetti della riflessione e qui vi ho messo minimo di appunto riferimenti alcuni sono quelli che ha citato anche il professore e questo che vedete sopra è un articolo più divulgativo che avevo scritto per uno speciale Treccani proprio sull'analisi del periodo e invece questo sotto la frase complessa è una prospettiva valenziale è un articolo un po' più impegnativo un po' più scientifico in cui ritroverete gli stessi concetti e fondamentalmente l'idea chiave che ho cercato oggi di appunto di trasmettere che è quella di una visione architettonica del periodo in cui ci sono frasi che hanno una posizione sintattica diversa quindi espansioni del nome espansioni dell'intera frase oppure argomenti del verbo frasi che funzionano come argomenti e poi questo gioco che in alcuni casi possiamo fare da primi piani e secondi piani per cui la posizione il tipo di di forma esplicita e implicita il tipo di congiunzioni che utilizziamo ovviamente se vogliamo ricorrere alle strategie grammaticali altrimenti ci rimangono le strategie testuali beh tutto questo è appunto vi dicevo una grande ricchezza che possiamo e dobbiamo di cui innanzitutto dobbiamo essere noi consapevoli come come insegnanti e che poi piano piano dobbiamo imparare a gestire e insegnare ai ragazzi appunto a gestire noi magari la sappiamo già gestire però per i ragazzi non è non è non è evidente e lo vediamo io almeno parlo della mia esperienza proprio quando loro cercano di alzare il registro per esempio quando si trovano a scrivere una tesi ma è da tanto tempo che non hanno più pratica di una scrittura magari un po' più più formale e allora sentono questa esigenza no di utilizzare le strutture periodali ma non le controllano per cui ci sono periodi in cui la circolarità viene meno quindi non si chiude il periodo oppure ci sono degli sbilanciamenti ci sono dei gerundi quindi delle frasi implicite in cui il controllo del soggetto è venuto meno proprio perché non c'è questa visione insieme e il periodo richiede proprio non un po' come la piazza rinascimentale deve essere visto dall'alto richiede una capacità appunto di di dominio che si acquisisce con una certa esperienza come dicevo non può essere un un obiettivo sensato per sicuramente non per la scuola primaria ma insomma forse è l'aspetto su cui bisogna continuare a lavorare sicuramente nel biennio e poi anche in modo in modo diverso facendo anche diciamo educazione letteraria poi nel nel seguito degli studi va bene io ho finito e insomma ho finito di presentarvi questo e direi che lascio qui la presentazione perché se volete appunto chiedermi chiedere qualcosa io sono qui benissimo allora intervengo subito io per dirti che hai fatto una lezione veramente bellissima per esemplificare molto concretamente e con molta ricchezza come la riflessione sulle strutture sintattiche si intrecci in modo strettissimo con il processo di potenziamento delle abilità linguistiche con le capacità espressive e con le capacità di comprensione del significato implicito in qualunque no espresso da qualunque testo scritto parlato quindi qual è il valore diciamo educativo della grammatica in questo caso della sintassi del periodo per potenziare le capacità linguistiche passive che sia stata una lezione molto interessante Cristiana mi senti adesso sì adesso sì c'è stato un momento in cui era un po' adesso ecco allora sì stavo dicendo che non c'è bisogno che ti dica io quanto è stato interessante perché te lo hanno detto i partecipanti nel corso mi sentite sì 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 adesso te lo hanno detto nel corso della chat io ho subito due domande alla prima di queste domande tu hai già risposto cioè ti volevo chiedere Vivi che sentivo sviluppare i tuoi argomenti a quale età in quale classe ordine di scuola tu ritenevi si appropriato introdurre queste esercitazioni questi concetti mi sembra perché le ultime cose che hai detto sono quanto mai complesse e hai sottolineato che non possono essere inflitte a dei bambini naturalmente però il punto di partenza cioè la foto con la il dito che sfoglia quello invece mi sembra praticamente adatto quindi credo che tu abbia percorso tutto la gamma è vero dei possibili approfondimenti a partire dalla semplice descrizione di un processo molto semplice e quindi suppongo e mi sembra che tu l'abbia anche detto verso la fine che tu ritieni che questo debba essere progressivamente spalmato nel corso nel corso dell'educazione linguistica fra scuola media e bianni e bianni e bianni e bianni questa era la prima domanda considero che più o meno la risposta sia questa se tu si interpreto bene quello che hai detto la seconda domanda invece è questa tu hai detto che nella vostra grammatica si parte dalla frase ecco è che questo inizio è aperto a sviluppi verso l'alto verso il testo e sviluppi verso le componenti della frase quindi verso le parole verso le parti del discorso benissimo questo è molto logico allora ti faccio una domanda all'inizio prendiamo come inizio la prima media perché non sappiamo che cosa abbiamo fatto alle elementari insomma un insegnante in prima media deve cominciare a fare grammatica e si può permettere di partire dalla frase per vedere qual è la sua struttura e allora che loro sappiano grosso modo che cosa sono i nomi e i verbi che hanno una salienza fortissima si può assumere credo ma non credo che si possa assumere che sappiano cosa sono le congiunzioni cosa sono le preposizioni allora se si parte dalla frase come si fa se non sanno che cosa sono le preposizioni le congiunzioni eccetera d'altra parte è vero l'ordine tradizionale che parte dalla morfologia e addirittura con sobrano sprezzo della intuitività parte degli articoli invece che dei nomi ecco sì e allora da qualche parte bisogna partire ecco qual è la tua eh qual è la tua idea proprio eh assumendo la restrizione da cosa si deve partire in prima media allora eh innanzitutto beh qui non l'ho messo però se avete piacere ve li mando perché insegnando in una facoltà di scienza e la formazione primaria ovviamente spesso questo è il segmento insomma su cui insisto di più no quello proprio della scuola primaria anche perché c'è questo equivoco per cui si pensa che la grammatica se uno non l'ha non l'ha fatta all'elementare poi dopo e ho fatto anche per una rivista che si chiama la vita scolastica delle un percorso proprio dalla dalla prima classe alla quinta per mostrare molto praticamente con esempi anche più concreti perché poi i bambini possono giocare utilizzare la drammatizzazione il disegno come fare a partire dalla frase perché appunto come si diceva loro di solito riescono abbastanza a distinguere il nome il verbo soprattutto se noi non li etichettiamo solamente come il nome indica cose e il verbo indicazioni ma diamo una diciamo una definizione insomma arriviamo a una definizione facciamo riconoscere appunto quello che succede e quali sono i protagonisti per loro è molto più utile a partire dalla frase perché la frase è un'unità di significato ho discusso anche insomma ne sono confrontata con dei colleghi che insegnano didattica della matematica e loro dicono che per il bambino è più intuitivo partire dalla geometria solida dalla palla che dal che dal cerchio perché il bambino ha esperienza della palla dei solidi il cerchio è un'astrazione e così che cos'è il nome fuori dalla frase che cos'è l'articolo fuori dal sintagma nominale lo devo tirar fuori il bambino nemmeno sente che l'articolo quando arriva in primaria nemmeno lo sente mio figlio diceva l'albero no? oppure mi insegna a parlare in indialetto perché sono parole appunto che non hanno un loro e quindi partire dalla frase significa anche far vedere al bambino un ambiente appunto un po' come il pesce nuota nell'acqua cioè il pesce deve nuotare nell'acqua poi dopo all'interno della frase io cerco di capire quali sono gli elementi e quando li seziono non sarà parola per parola ma sarà per gruppi di parole come immagino vi abbia mostrato anche Andreose quindi individuerò il verbo e poi di solito ci sono dei gruppi in gruppo del nome e all'interno di questi gruppi capisco che il nome è quello che comanda e poi allora magari faccio vedere l'accordo e sì sicuramente quelle poi alle primarie diciamo che si usano anche termini come le paroline per indicare in generale le parole funzionali sono piccole quindi spesso possono essere identificate così ci sono anche delle strategie e certo le indicazioni nazionali su questo sono abbastanza precise cioè in realtà loro dicono di presentare la frase e poi dopo presentare all'interno della frase le categorie principali e parlano appunto del nome del verbo dell'aggettivo e alla fine dicono le principali preposizioni e congiunzioni le principali ma addirittura elencano ma perché cioè veramente uno si chiede vabbè ma solo queste no ovviamente no però diciamo la riflessione grammaticale forse è bene esercitarla solamente sulle strutture portanti quindi anche sulle congiunzioni più frequenti poi è chiaro che i bambini sono esposti anche a testi di diversa complessità ma la riflessione la costruiranno poi più avanti e varie comunque studi anche che hanno fatto per esempio qui gli insedianti del Gissel hanno dimostrato che l'avverbio cioè alla fine della quinta l'avverbio è molto molto difficile da identificare per i bambini e spesso anche la preposizione perché poi si possono confondere preposizioni articolate articoli partitivi e poi si possono confondere articoli e pronomi quindi sì per loro comunque le paroline appunto sono sempre insomma le parole non piene o comunque che hanno una funzione più di ponte sono molto più complesse da gestire perché richiedono la capacità di astrarre di capire qual è la funzione nella frase e questo io dico c'è una cosa appunto che dico sempre alle studentesse perché come potete capire che loro sono pronti per fare riflessione metalinguistica dico se io parlo per esempio dico il mio cane ha cinque anni allora dico che cosa possiamo dire della parola cane allora se loro rispondono anche un cane mi piace tanto il cane ma come si chiama il tuo cane vuol dire che non sono pronti se qualcuno dice il mio cane se qualcuno inizia a dire il mio cane ha quindi il cane è tuo cioè se iniziano se hanno capito che io dico la parola cane cioè se hanno già questa attenzione per la parola per la forma mi dico ah ma è un cane se iniziano appunto a fare osservazioni più metalinguistiche quindi sulla forma della parola sugli elementi che le accompagnano allora sono pronti di solito prima della terza primaria questo non succede quindi è chiaro che in due anni non si può fare tutta la grammatica però lì si può rendere consapevoli via via della costruzione della frase di una frase appunto frasi complete frasi incomplete significati diversi del verbo su questo loro ecco quando si lavora sul significato sono anche molto intuitivi per esempio sono bravissimi più bravi degli adulti nel trovare i diversi significati del verbo non so mangiare trovano tantissimi esempi anche più di quelli che trova un adulto in cui magari mangiare significati metaforici quindi sì bisogna sempre rimanere diciamo più legati al significato alla loro esperienza utilizzare la dimensione del gioco tutto questo però poi richiede che allora poi dopo la strazione venga dopo dopo gli undici anni si può fare un lavoro più sistematico sì tu mi hai risposto avendo in mente soprattutto la scuola primaria è vero sì quindi la scuola primaria sì mentre io non a caso avevo detto la prima media pensando al pubblico a questa platea di nostri partecipanti al corso che sono scuole medie e biennio quindi diciamo approfittando di quello che tu hai detto finora tornando tornando eh hai detto cose che ci hai dato un raguaglio di quello che si fa nella migliore delle ipotesi o sarebbe bene fare nella scuola primaria dunque quando i bambini passano alle medie ecco in prima media allora desumo deduco da quello che tu hai detto che dovrebbe essere possibile partire dalla frase è vero dato che qualcosa su cosa sono le preposizioni le congiunzioni dovrebbero già averlo messo a fuoco è così? sì è così e allora diciamo la premessa che ho fatto prima innanzitutto dovrebbe servire a far passare l'idea che spesso gli insegnanti delle medie dicono i bambini arrivano dall'elementare che non hanno fatto la grammatica oppure che l'hanno fatta ma l'hanno dimenticata se l'hanno dimenticata è perché non erano pronti oppure l'hanno fatta in modo tassonomico e quindi è passata senza lasciare traccia quindi innanzitutto mettersi nell'ordine di idee che è lì quello il momento per lavorare su tre anni appunto su un curriculum grammaticale anche abbastanza completo da dove partire è chiaro che paradossalmente alla primaria c'è più libertà perché poi ci sono i libri di testo nelle scuole medie che di solito partono dal piccolo per arrivare al grande quindi c'è questa idea che in prima media si fanno le parti del discorso in seconda media si fa la frase semplice e in terza media si fa la frase complessa e tra l'altro non c'è solo non è solo il problema che noi vediamo diciamo i pezzi della bicicletta senza vedere la bicicletta come funziona ma oggi abbiamo visto anche che la frase semplice e la frase complessa devono sempre dialogare tra di loro perché sono due strategie al servizio di uno stesso obiettivo cioè se io devo esprimere un fine posso sempre scegliere se usare un complemento o usare una frase quindi ma questo è un problema che c'è anche nello studio delle lingue classiche perché anche in greco cioè ho il latino se io faccio il complemento di fine poi l'anno dopo faccio la sintassi e la frase finale va bene però in una stessa frase c'è uno stesso verbo può reggere sia un complemento sia una frase quindi queste strategie ci sono poi in tutte le lingue non è che l'italiano e quindi metterle in relazione far vedere subito la ricchezza forse serve anche a loro a insomma non farsi l'idea che la grammatica sia una serie di contenitori di compartimenti stanti certo 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 benissimo mi taccio e invito i partecipanti a porre domande nelle sale dello scorso anno c'erano anche alcuni riferimenti o se no li inserisco in questi al sillabo perché ci sono stati i vari appunto gruppi che hanno lavorato per esempio c'è il sillabo di Bolzano elaborato da Maria Pialoduca e un gruppo di insegnanti della provincia autonoma di Bolzano e ultimamente è uscito anche un lavoro fatto dall'Indire in collaborazione con una serie di scuole soprattutto della Sicilia ed è gratuitamente scaricabile sul sito di Carocci è un libro appunto vi inserirò magari il link per scaricarlo però bisogna autenticarsi sul sito e poi si scarica gratuitamente quindi una sperimentazione in verticale che hanno fatto dalla primaria fino al biennio mi sembra e ci sono c'è appunto una proposta di curriculum proprio di scelta e messa in sequenza degli argomenti allora c'è una domanda vedo tv sì buonasera io insegno alle medie e proprio su questa opportunità di diciamo scardinare appunto anche la prospettiva dell'insegnamento anche rispetto al testo che appunto è in sequenza parte dal piccolo va verso il grande l'ostacolo maggiore che trovo quando appunto faccio qualche tentativo è invece è proprio la rigidità degli alunni che probabilmente ci arrivano dalle elementari e che apre anche una parentesi la riscontra anche nella storia o anche in altre materie per cui ti chiedono quale pagina quale paragrafo hanno sempre bisogno di ritornare a appunto a perimetrare rispetto a qualcosa di scritto o a circoscrivere appunto a circoscrivere perché se li accompagnano un ragionamento un po' più complicato e fuori dagli schemi fanno veramente fatica a seguire e soprattutto poi a consolidare a casa perché non riescono a ritrovarsi questo è un po' è un tema molto interessante perché è uscito tra l'altro un libro se vedete questo libro si chiama grammatica dei bambini le parole e poi è uscito anche un altro volume che è il secondo volume allora questo è dedicato alle parole cioè le parti del discorso e poi è uscito anche il secondo volume che è dedicato alla frase grammatica dei bambini si intende quindi più per la primaria ma secondo me è molto interessante anche per le medie perché propone l'approccio diciamo degli esperimenti grammaticali quindi metodo lo duca e presenta proprio il modo in cui possono essere articolate delle lezioni che portino alla scoperta delle parti del discorso oppure della struttura della frase e sono lezioni molto diverse dalla lezione tradizionale la lezione tradizionale è molto più rassicurante sia per l'insegnante sia per il ragazzo tanto che giustamente le autrici sono un gruppo Veronica Wicic e altre e dicono che quando per esempio in una classe ci sono dei bambini non è una questione di BES bambini non madrelingua no ma ci sono magari dei bambini caratteriali comunque la situazione disciplinare della classe è molto complessa il metodo per scoperta non è detto che sia applicabile perché richiede comunque un dialogo euristico quindi una capacità dei bambini di stare nel dialogo di rispettare i turni di parola la classe è un ecosistema in cui non sempre ci sono le condizioni condizioni di questo tipo nelle condizioni migliori si può fare insieme un percorso più più di scoperta e questo non solo nella primaria ma anche nella scuola media allora se noi li portiamo in una situazione completamente nuova in cui la grammatica diventa altro cioè diventa qualcosa di più simile all'esperimento scientifico loro ci stanno e ti seguono ovviamente se ci sono queste condizioni no? se se comunque l'approccio però è quello più a cascata comunque tipico più deduttivo no? per cui sono io insegnante che ho dalla mia parte il sapere ti dico che cos'è un nome e poi dopo tu lo riconosci magari impari a fletterlo studiamo insieme i paradigmi dei verbi è chiaro che loro lì vogliono hanno bisogno di sicurezza e del resto la grammatica è proprio etimologicamente lo studio della lingua scritta quindi è chiaro che c'è dietro un libro c'è dietro un sapere millenario e loro a quel punto anche loro lo rivendicano loro e anche i genitori perché l'analisi grammaticale è quella in cui vedo che ci sono anche più richieste di genitori di stare comunque vicino alla tradizione perché poi dopo dovranno fare latino ecco questo è un argomento che spesso alle medie sento io ho avuto la fortuna una fortuna un po' pilotata di mandare mia figlia in una scuola che è anche vicina a casa dove adottavano conosco la via lingua che è appunto la grammatica per le medie a cui ho lavorato insieme a Sabatini e Camodeca e quindi ho seguito proprio il percorso e arrivata in terza media comunque l'insegnante si è sentita che doveva fare un po' di grammatica tradizionale doveva fare un raccordo perché poi dopo sarebbero andati al liceo e poi chi andava al liceo come faceva ha creato una grande confusione soprattutto negli alunni più fragili in quelli più consapevoli insomma si sono chiesti vabbè ma perché prima era tutto chiaro cioè era tutto razionale ma perché adesso dobbiamo imparare queste cose un po' posticce cioè dobbiamo imparare tutte queste etichette che poi magari ci serviranno per tradurre dal latino ma tanto adesso non lo stiamo facendo latino cioè avevano sviluppato una tale consapevolezza una tale da dire vabbè ma adesso tutto questo però aspettiamo per tutto quest'altro e però c'è stata anche una reazione un po' che mi fa essere un po' meno ottimista e cioè c'erano alcuni ragazzi fragili in matematica che reagivano in questo modo dicevano ah no ma se adesso anche nella grammatica bisogna ragionare allora io non sono bravo e quindi diciamo è una sorta di effetto boomerang cioè il fatto che la grammatica diventi qualcosa che non si impara a memoria ma su cui si ragiona avvicina tanti ma può anche respingere alcuni quindi non sono tutte rose e fiori sicuramente per rendere i ragazzi un po' più consapevoli e un po' più padroni della lingua è bene che noi insegnanti rimettiamo un po' in discussione sapere grammaticale e lo confrontiamo un pochino con con la linguistica moderna perché avete visto che ci sono comunque io non dico che voi dobbiate sposare in pieno il modello valenziale però capire che ci sono alcuni attrezzi del mestiere che vi possono essere utili e soprattutto direi capire che dovete portare un bagaglio leggero è un po' io dico sempre quando viaggiavamo vent'anni fa partivamo con quelle valigie enormi adesso abbiamo imparato con un trolley a farci stare dentro l'essenziale per la flessibilità comunicativa che oggi c'è richiesta perché dobbiamo appunto imparare poi a gestire strumenti diversi tipi di testi diversi è bene puntare sull'essenziale quindi capire bene che cosa va dato quando a volte rinunciare un po' a tutta quanta la tassonomia e guardare subito anche un po' la funzione per esempio i tempi verbali questo è un aspetto molto interessante a cui tra l'altro sempre la stessa Veronica Uici ci aveva dedicato già un libro che si chiama Grammatica e Fantasia che è un libro che riflette anche sull'uso che i bambini fanno spontaneamente dei tempi verbali per il fatto che sono stati che hanno ascoltato delle storie e nelle storie ci sono i passati remoti ci sono i tempi dell'anteriorità per cui loro capiscono che quando scrivono una storia di fantasia non possono usare un unico tempo verbale spesso gli insegnanti dicono se inizi con un tempo poi continui con quello invece no perché in una buona narrazione almeno due ce ne servono un tempo verbale per il primo piano e uno per lo sfondo almeno per il passato e quindi questi bambini che non dominavano il sistema verbale però capivano che c'era bisogno di transizioni temporali e in qualche modo le attuavano e lei fa vedere che la correzione dell'insediante a volte è una correzione normalizzante che sovrappone alla lingua del bambino una lingua adulta senza capire lo sforzo che sta facendo per arrivare a un obiettivo che è quello di differenziare i piani quindi in questo io dico una vostra maggiore consapevolezza anche di questa complessità e ricchezza della grammatica anche dei diversi effetti che con le scelte delle strategie grammaticali possiamo ottenere a volte può portarvi anche a valorizzare dei tra virgolette errori cioè delle scelte maldestre che però tradiscono un bisogno comunicativo reale cioè il bisogno appunto di differenziare in qualche modo ad esempio i piani del racconto questo insomma non so se ho risposto sì 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 grazie grazie mille quest'ultima cosa che ha detto tra l'altro appunto allora io vado incontro cioè sono in linea con quello che segnalava scorrego dico se hai preso questo tempo devi proseguire su questo tempo quindi abbatto tutta la loro creatività ahimè ma cioè più che altro non si tratta tanto di abbatte la creatività quanto di trasmettere una pseudo regola cioè se io sto parlando al presente va bene però al passato non si può usare un tempo solo cioè se io inizio con l'imperfetto ma non è detto che io debba continuare con l'imperfetto perché a un certo punto se succede qualcosa ci vuole un bel passato remoto e se sto scrivendo lo uso nel parlato non lo uso magari uso il passato prossimo però comunque differenzio i piani quindi dipende cioè è chiaro che se è un testo funzionale posso rimanere cioè se sto scrivendo una ricetta uso il presente posso usare anche l'infinito però nella narrazione questo non è mai vero e quindi se i bambini poi imparano una regola troppo rigida che non tiene conto del tipo di testo poi rimangono anche un po' imprigionati no? da questa così come c'è anche una bella riflessione qui sul futuro scolastico no? cioè perché noi normalmente diciamo domani vado domani faccio una passeggiata no? domani farò una passeggiata quindi c'è un'idea che è legittima cioè la scuola deve innalzare deve aiutare i bambini a innalzare il registro per carità e a usare in modo appropriato i tempi verbali però senza piattire troppo altrimenti torniamo diciamo per vie diverse a quello che negli anni passati si chiamava italiano scolastico che magari oggi non è fatto più di sostituzioni del tipo ah hai usato andare no? via recarsi no? magari queste cose non si fanno più però appunto ci sono c'è questa tendenza a a trasmettere diciamo un uso poco vivo della lingua invece è molto importante avere consapevolezza dell'uso vivo della lingua ma uso vivo anche nei testi anche nei testi scritti letterari perché se poi loro leggono come adesso giustamente si invita a fare libri anche diciamo classici per ragazzi o nuovi scrittori per ragazzi loro la vedono questa ricchezza questa vivacità anche della lingua parlata appunto per esempio ecco vi ho detto che il mio cane si chiama Amemi un po' perché è arrivato un po' in casa per sbaglio ecco e un po' perché quando i miei figli sono andati in particolare il mio figlio più piccolo è andato a scuola primaria e hanno iniziato a correggerlo io non lo correggevo quando parlava e diceva Amemi e insomma e allora ho iniziato a dire ma ma tu non mi hai corretto e insomma allora ma mai mettersi contro l'insegnante sempre e allora ha detto che era giusto che l'insegnante quando si scrive anche quando si parla insomma trasmetta questa regola che insomma è una regola scolastica molto importante che però a casa potevamo continuare a concederci questa così come a casa stiamo in pantofole potevamo continuare a dire Amemi e lui diceva sì no ma poi dopo io mi confondo poi dopo esco di casa e allora ho detto vabbè allora facciamo così adesso se prenderemo un cane lo chiameremo Amemi così poi dopo tu puoi puoi chiamarlo puoi dirlo anche fuori casa e così è venuto fuori ecco adesso il cane ha già aperto gli occhi perché si sente si sente nominare e Amemi è un po' il caso di una di quelle strategie che sono delle strategie che nel parlato utilizziamo una mia studentessa mi ha riportato una cosa che mi ha fatto molto ridere cioè stava facendo il tirocinio e ha sentito la maestra urlare a un bambino Amemi a me tu non me lo dici cioè lei rimproverava il bambino per aver detto Amemi e nel frattempo lo stava dicendo cioè Amemi a me tu non me lo dici perché perché in questo caso non era ravvicinato era a me tu non me lo dici a me tu non me lo dici e qui non erano attaccati Amemi e quindi non lei stessa lo usa ma non lo nota invece una collega che insegna nelle medie mi ha detto che lei aveva notato che i suoi alunni non usavano Amemi ma poi usavano a te ti a noi c cioè la rigidità della regola scolastica aveva fatto sì che loro si censurassero su Amemi però poi dopo non avendo capito per quale motivo questo qua era un errore diciamo un errore è una sovrabbondanza che a scuola non è non è gradita e poi dopo in tutti gli altri casi di questo ne è cioè andava sempre bene tranne Amemi a contatto e quindi anche di nuovo qui cioè in conto far capire no? cioè far capire che in realtà adesso a me mi cioè quella me e quel mi hanno una funzione diversa quindi se c'è a me vuol dire che c'è una un contrasto con per quanto mi riguarda mi piace questa cosa quindi è una strategia che nel parlato utilizziamo in altre lingue normale no? in francese in spagnolo no? a me mi gusta in italiano così come ci sono delle regole scolastiche questo si vede molto bene nelle correzioni che bloccano la ripetizione cioè se io ripeto una parola di solito ma mi viene corretta non solo dall'insegnante anche dal dall'editor no? c'è questa paura della ripetizione ma in un testo scientifico la ripetizione è importante cioè è meglio ripetere se io sto parlando di un can di un gatto è meglio ripetere gatto anziché dire il felino adesso per esempio parlavamo di Rodari no? spesso quando quando leggo degli articoli su Rodari dopo un po' leggo lo scrittore di Omenia no? perché? perché insomma dire sempre Rodari allora uno dice lo scrittore di Omenia ma pensate per un bambino non sa dove Omenia lo scrittore di Omenia ma dice ma boh ma sarà un altro o sarà sempre lui quindi certe strategie che sono delle strategie testuali diciamo di una testualità anche avanzata sono appropriate in certi tipi di testi e in certi registri e magari in certi altri possono possono diventare degli ostacoli alla comprensione quindi diciamo tutte le regole andrebbero un po' usate con un minimo di ecco senza troppa rigidità cioè insegnare ad utilizzare un registro alto appropriato però senza senza rigidirsi mia figlia adesso fa il primo ginnasio ma già in terza media quando leggeva mi faceva vedere dei libri mi portava a maniti e diceva mamma guarda ma questo usa sempre a me mi nei dialoghi e ho detto è certo perché fa parlare dei ragazzi e quindi li deve far parlare in modo autentico naturale e allora serve è chiaro che quella diventa una strategia a servizio della mimesi del parlato è un'operazione molto consapevole ma non è una licenza non so come dire non è una licenza poetica o dello scrittore quella è una strategia che l'italiano ha che è appropriata in certi casi e meno per altri e poi a volte la censura scolastica fa sì che noi adulti scolarizzati quando parliamo non lo usiamo perché sennò veniamo subito etichettati o come sciatti oppure come un po' provocatori ecco io banalmente insomma quando uno esce col cane sempre uno ti chiede ah come si chiama a me mi a me li no a me mi ma come a me mi piace sì ma è un errore ho detto ho detto però adesso il cane ce l'è me lo tengo insomma rispondo così invece magari chi mi conosce dice ah 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 che nome spiritoso che persona autoironica eh dico sì sì si cerca di rallegrarsi la vita altrimenti a furia di fare grammatica ci si intristisce la ringrazio la ringrazio tanto benissimo abbiamo ancora dieci quindici minuti possiamo approfittare di Cristiana dei Santi chi ha altre cose da chiedere beh intanto qui c'è una bella cosa che scrive Calvi i miei studenti urlano quando i promessi sposi trovano dopo il passato remoto il presente indicativo io sono felice è certo ma infatti appunto Manzoni dicevamo prima è proprio il campione della della costruzione e spesso ma infatti il presente indicativo spesso è anche un valore di presente storico ma lo stesso imperfetto per i bambini i bambini usano l'imperfetto del gioco facciamo che io ero ma in questo momento e quindi per loro l'imperfetto può essere anche un verbo appropriato per introdurre una dimensione di finzione nel presente e del resto ecco per esempio una cosa che c'è qui nel insomma alla fine c'è anche una parte sul testo e quando si parla di tempi verbali c'è un brano di di un romanzo mi sembra che sia Fahrenheit 451 che è un romanzo di fantascienza e inizia però usando il passato remoto perché mica perché è già successo quello è un futuro immaginario ma proprio perché è immaginario io utilizzo i tempi i tempi verbali della narrazione e quindi uso il passato remoto uso l'imperfetto per chiare lo sfondo quindi questo è una cosa che li colpisce molto perché la fantascienza loro amano la fantascienza e sanno che la fantascienza è qualcosa spesso di proiettato in un futuro immaginario e allora dobbiamo usare il futuro? No perché se vogliamo far capire che quella è finzione possiamo tranquillamente usare i tempi appunto del passato e c'è anche Alessandra che dice bagaglio leggero ma anche libri leggeri eh sì lo so purtroppo questa è una battaglia un po' un po' difficile perché l'editoria scolastica forse ne parlavamo anche la nascosta è molto tradizionalista non pensa ai ragazzi pensa agli insegnanti quindi alle attese degli insegnanti e cerca di di dare il più possibile appunto lei dice alcuni esercizi sono assurdi e del tutto e del tutto inutili però è anche vero che appunto una critica che è stata fatta anche alle grammatiche che ho fatto con Sabatini è ci sono pochi esercizi non c'è l'esercizio su non so cosa sui no sui verbi difettivi non lo so quindi anche scelte che magari sono proprio dovute al fatto che gli esercizi in realtà sono pensati in un altro modo quindi non per non solo esercizi di riconoscimento ma anche esercizi di manipolazione della lingua quindi poi a un certo punto sono anche dei modelli poi uno se li può fare se li può costruire anzi li può costruire con i ragazzi può utilizzare i testi che si leggono per come materia prima è chiaro che bisogna acquisire anche un po' di spirito di iniziativa e io capisco che a volte è anche comodo avere qualcosa da fotocopiare una scheda però perlomeno nella primaria questa tendenza a usare le schede fotocopiate sta diventando un po' i bambini scrivono anche molto poco insomma poi con la dad già adesso la scrittura manuale è difficile insomma è difficile da esercitare perché è molto più semplice digitare su una tastiera però sono forme di intelligenza che si rischia che si rischia di perdere c'è un'altra mano alzata è sempre la stessa è sempre la stessa non so come far a toglierla però se poi non voglio rubare tempo ai colleghi però se c'è tempo ha pronunciato la parola magica dad forse qui in Versilia da lunedì andremo in dad e ho una grande preoccupazione fare grammatica in dad consigli per l'uso stiamo parlando di medie stiamo parlando di scuola media non so quando farete no forse dopo venerdì prossimo ci sarà l'ultima lezione del corso quella sulle parti del discorso e dopo ci sarà il seminario con le tutor dovrebbe essere così se non erro sì è così ovviamente vi daranno degli spunti io ho passato anche dei materiali perché per esempio il lavoro con le immagini il lavoro con i video è un lavoro che funziona molto quindi diciamo partire dall'immagine e passare poi alla verbalizzazione oppure un'altra cosa che funziona sono i grafici i grafici quelli diciamo introdotti da Sabatini anche qui forse l'avevo già mandato lo scorso anno ma ve lo rimando anche quest'anno è un powerpoint con i grafici scrivibili ecco è modificabile quindi si possono utilizzare quegli schemi di frase radiali che avete visto e inserire via via i diversi elementi di una frase anche quello si può condividere quindi si può costruire insieme oppure appunto si possono fare dei percorsi un possibile a quelli descritti in questi libri grammatica e fantasia ma anche appunto in questo libro più per grandi proiettare magari qualche qualche pagina qualche testo e provare insieme a costruirsi da soli una piccola un piccolo c'è per esempio un'applicazione molto semplice che si chiama Book Creator che si scarica gratuitamente e io l'ho utilizzata per fare dei laboratori con le studentesse e abbiamo creato per esempio un piccolo libro su su Pascoli Bambino uno su Leopardi Bambino un altro più dedicato all'esplorazione grammaticale perché ci si può lavorare contemporaneamente una piattaforma di scrittura collaborativa cioè io abilito una serie di persone per esempio un gruppo Meet a scrivere e ci si lavora contemporaneamente cioè ci si possono inserire immagini si possono mettere link e poi si possono combinare anche vari elementi per esempio io posso inserire il collegamento cioè sto facendo grammatica sto lavorando sul verbo posso inserire il collegamento alla voce verbale così come è definita nel dizionario Sabatini che si consulta gratuitamente sul sito del Corriere della Sera così andiamo a vedere il verbo per esempio facciamo una serie di riflessioni su mangiare i bambini magari tirano fuori una serie di frasi e poi dopo si va a confrontare con quello che si trova sul dizionario e magari si vedrà che il dizionario dice tante cose alle quali non avevamo pensato ma a volte i bambini ne sanno anche una in più del dizionario e questo li fa sentire molto molto competenti quando trovano anche solo il fatto di trovare un esempio che nel dizionario non c'è magari noi che siamo grandi capiamo che quell'accezione magari è compresa dentro l'altra però loro hanno trovato qualcosa e quindi si sentono appunto competenti quindi si può far interagire la dimensione del lessico con quella della riflessione grammaticale e questo è molto importante perché anche qui non bisogna tenere troppo compartimentati i settori in fondo anche quando riflettiamo sull'accordo stiamo riflettendo anche sulla morfologia della parola e quindi ecco poi partire dalla frase tra l'altro ha il vantaggio di permetterci di mettere a fuoco subito la regola dell'accordo perché quando noi presentiamo per esempio le parti del discorso il nome l'articolo e i bambini devono imparare che hanno tutte queste forme maschile femminile singolare plurale però ancora non sanno perché invece se loro partono dalla frase vedono che il nome non so il cane ok cane il il cane bianco i cani bianchi il cane bianco abbaia i cani bianchi i cani piccoli abbaiano cioè già lì si capisce il perché poi ci sono tutte queste forme perché le parole devono mettersi d'accordo tra di loro in pratica c'è qualcuno che comanda è vero che nella frase comanda il verbo ma nel gruppo del nome è il nome che comanda quindi insomma vedere già le parole in un ambiente in cui funzionano e poi appunto cane allora uno dice beh i cani piccoli non possiamo dire non possiamo usare una parola sola i cani piccoli che cosa sono sono dei canini no perché i canini sono i denti sono dei cagnolini ah cagnolini can e cagna no c'è questa radice che cambia il suono e allora possiamo giocare a fare derivati allora diciamo va bene allora cane quando è che rimane questa parte can in quali parole derivate canile però cagnolino il femminile già cagna quindi già qui c'è diciamo la radice alternativa cagnesco guardare in cagnesco allora qui guardare in cagnesco tutti i bambini conoscono questa espressione oppure fare una cagnara impariamo anche dei modi di dire e anche questa è ricchezza lessicale perché spesso soprattutto magari i bambini che non hanno avuto un input linguistico molto ricco magari non li conoscono no in questi modi di dire sono un po' scelti dall'uso oppure e quindi ci sono appunto tanti modi noi partiamo da una frase e da lì possiamo fare tantissimi percorsi se ci siamo abituati a collegare e non fa niente cioè se magari il lessico invece è previsto non so nel libro 100 pagine dopo in questo momento soprattutto con la DAD cerchiamo di mettere in gioco tutte le conoscenze soprattutto di di entusiasmarli di motivarli di coinvolgerli e devo dire che nella DAD a differenza che in classe anche i bambini che in classe diciamo parteciperebbero meno i ragazzi tendono soprattutto nella chat ma questo io lo vedo anche con gli adulti cioè c'è più reattività quindi si fanno avanti anche i ragazzi che normalmente ecco tenderebbero ad essere un po' sovrastati da alcune voci più insomma che sono quelle dei primi banchi dei ragazzi leader di quelli popolari come dicono come dicono loro e quindi insomma è molto faticosa la DAD diciamocela diciamocelo per tutti quanti può essere anche un'occasione probabilmente sì un'occasione anche per per mettersi in gioco per giocare un po' anche noi per alleggerire il carico e allora ho sentito diciamo sia insegnanti d'italiano che dicevano ah faccio soprattutto grammatica in DAD perché almeno è una cosa molto molto semplice da pianificare so esattamente che cosa fare facciamo gli esercizi in asincrono quindi diciamo e altri che dicevano no no faccio proprio faccio grammatica e li perdo quindi anche qui dipende dalla classe dipende dalla loro reattività insomma sicuramente trovare altre vie può essere utile stimolante dovete però anche un po' fare un bilancio tra le vostre forze insomma io dico cercate di divertirvi un po' anche voi perché è un periodo davvero un po' cupo e quindi se aggiungiamo anche fatica al carico diventa davvero davvero pesante è proprio così e poi si rischia un po' di perdere più fragili questo è il grande problema grazie infinite delle strategie che puntino come dicevamo induttive che puntino sulla competenza innata cioè se un bambino è un parlante competenze della lingua è un madrelingua se noi facciamo le domande giuste lui risponde perché appunto i giudizi del parlante sono quelle risposte che poi ci sa dire se una frase è grammaticale o non è grammaticale possiamo proporre anche delle frasi che possono avere un significato ambiguo non so Castelfranchi e Parisi facciamo l'esempio di la vecchia porta la sbarra o la vecchia porta la sbarra insomma ce ne sono tante di frasi così possiamo fare giochi di parole loro adorano i giochi di parole le frasi palindrome infatti io uso spesso i draghi logopei perché è molto divertente per loro soprattutto nelle prime i giochi di parole sono anche un modo indiretto per rafforzare l'ortografia perché loro così acquistano consapevolezza della forma delle parole perché tutte le lettere che ci sono diventano importanti per fare un anagramma allora ha senso che io mi ricordi che in cieco c'è una i che non si sente perché poi se devo fare l'anagramma le lettere sono cinque non quattro quindi insomma sì sono piccole piccole strategie che si possono usare per insomma per far passare in modo un po' meno oppressivo anche quelle regole che effettivamente ci si aspetta che per esempio una scuola primaria o comunque la scuola anche secondaria di primo grado trasmetta cioè l'ortografia quando i bambini escono dalle scuole medie una delle cose possono non sapere che cos'è un complemento di modo possono sbagliarsi a riconoscere un soggetto quando è posposto ma se scrivono cieco senza la i io dico effetto spinaccio tra i denti cioè segnante di insomma che dice mamma mia questa ancora non sa che è cieco poi dipende anche un po' perché il problema è che a volte anche tutte tante eccezioni dell'ortografia si fanno di nuovo qui nelle prime classi ma si tratta di parole non frequenti nell'uso cioè che il bambino impari per esempio in seconda elementare che soquadro si scrive con due Q ma soquadro quando mai lo userà dopo è normale che se lo scordi no quindi anche qui insomma le famose parole capricciose andrebbero poi un po' riprese negli anni successivi e viste in testi autentici altrimenti rimangono delle cose un po' così un po' delle parole che volano un po' un po' per aria appunto un po' bizzarre ma queste parole bizzarre sono molto utili anche nei cruciverba ma io dico anche rendere bambini spettatori consapevoli anche dei quiz televisivi perché l'eredità è un grandissimo strumento la ghigliottina dell'eredità è un grandissimo strumento di potenziamento linguistico io ricordo che Umberto Elco diceva che lui tutte le sere si guardava l'eredità perché si sentiva intelligente pure si arrabbiava in modo furioso quando non riusciva a indovinare ed effettivamente è vero cioè ci mette alla prova a volte diciamo ma questa qui è veramente tirata cioè no diventiamo anche abbiamo anche una competenza meta che ci fa dire beh questa sì questa qui è proprio buona non ci sono riuscite a indovinare però invece altre diciamo no 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 e ci sono anche tanti giochi di parole che si possono fare con i bambini c'è anche questa dimensione della gamification che si usa molto nella didattica dell'italiano e le due cioè giochi di parole anche giochi memory per lavorare sulla sinodemia ci sono delle piattaforme per esempio c'è una piattaforma che si chiama Kaut adesso lo scrivo lo scrivo qui Kaut in cui si possono fare dei giochi cioè l'insegnante è molto semplice io dico sempre che se ci riesco io ci possono riuscire tutti per esempio quando abbiamo fatto il 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 librettino su Book Creator su Leopardi Bambino poi avevamo costruito su Kaut un questionario un po' buffo ci sono domande a scelte multiple per esempio quanti nomi aveva Giacomo Leopardi allora uno c'era scritto non so Giacomo un altro Giacomo Pietro nell'altro Giacomo Taldegardo Saverio Francesco cioè tutti quanti nomi che effettivamente aveva e e poi ci sono ognuno accede dal proprio dispositivo anche dal cellulare si può accedere anche dal cellulare quindi anche diciamo alla piattaforma e clicca sulla risposta esatta e poi immediatamente ognuno è un utente quindi si creano anche delle cioè si vede chi è arrivato per primo c'è la dimensione del gioco e della competizione che per loro e si possono fare anche quiz lessicali anzi dopo magari vi metto il link perché avevo creato uno per le mie studentesse che era era molto semplice però appunto secondo te qual è la parola che si avvicina di più al significato di obsoleto no? Da sicuro che ci sono studentesse che non lo sanno quindi non so allora bisogna mettere sempre una che si avvicina ma non è proprio una che è completamente per esempio non so lasciato da parte oppure spento oppure insomma vi inventate delle cose più o meno probabili insieme ovviamente alla risposta giusta e poi senza perché è un modo appunto cioè io poi non vedo chi è che ha sbagliato cioè non è che sto a dire ah mamma mia ma tu non sai che vuol dire obsoleto insomma alla fine però chi non lo sa prende consapevolezza di che cosa vuol dire e magari vede che se se proprio se la torre di quelli che non lo sanno è bassa bassa uno dice beh certo che tutti lo sanno tranne io magari poi le parole vanno presentate nel contesto perché io dico sempre che se se dico una parola a caso così anche magari tanti tanti adulti scolarizzati non sanno non sanno che vuol dire banalmente non so faccio sempre sirocchia perché sirocchia in termine dantesco ma nessuno lo sa allora sirocchia allora lì veramente poi ci si può sbizzarrire quindi ci si diverte anche un po' perché uno dice non so è la femmina del sirocchio cioè si può sì certo sorella però uno può dire una suora è una insomma senza colpevolizzare chi non lo sa poi magari si dice ah guardate questa frase c'era anche questa parola c'era anche guardiamo se c'è nel dizionario allora magari nel dizionario c'è però c'è scritto basso uso oppure rara oppure letteraria allora uno dice beh vabbè non lo sa non lo sapevi insomma non lo sai ma forse non avevi letto questo canto di Dante oppure beh vabbè comunque non è una parola dell'uso non è una parola fondamentale insomma si cerca un po' di sdrammatizzare Cristiana allora quanto sia stato interessante tutto quello che hai detto te l'hanno continuato a dire tutti i partecipanti nella chat e quindi non c'è bisogno che io te lo ripeta ti raccomanderei di mandarci le ultime cose che hai citato quelle sul sillabo quelle ci ci interessano molto certo senza altro allora arricchisco queste slide con i riferimenti e poi le mando ad Elisa Guidi sì sì va bene manda anche a me direttamente d'accordo e vi mando allora anche magari gli articoli quelli per la vita scolastica che sono molto operativi però molto pratici e va bene vi saluto vi ringrazio grazie professoressa buonasera salutiamo a noi grazie grazie buonasera grazie davvero grazie buonasera arrivederci grazie grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti